Continuiamo il nostro viaggio nella storia del gioco di ruolo per computer, dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video continueremo insieme il nostro viaggio nella storia del gioco di ruolo per computer. Siamo arrivati a un altro quinquennio di importanza fondamentale, quello che va dal 1990 al 1994. Mi raccomando, se vi siete persi gli episodi precedenti di questa serie, andateli a recuperare. Abbiamo altri episodi, altri tre episodi prima di questo, in cui parliamo appunto in ogni episodio di un quinquennio, iniziando proprio dalle origini del videogioco in generale e del gioco di ruolo in particolare. Anche in questo video vi offriremo degli esempi di gioco, diciamo dei brevissimi assaggi di tre giochi che abbiamo scelto, i particolarmente importanti di quest'epoca. Ecco, prima di cominciare vi voglio anche dire che questo è l'ultimo in realtà degli episodi di questa serie in cui vi farò vedere degli assaggi appunto di gameplay di alcuni dei giochi citati. Questo perché a partire dal prossimo segmento, dal prossimo quinquennio, entriamo in un'epoca in cui finalmente il sottoscritto ha cominciato a suo tempo a giocare e quindi parleremo di giochi che presenteremo qui nel canale con, magari non tutti, ma insomma che, diciamo che nell'ottica di uno sviluppo futuro del canale probabilmente l'ideale sarebbe parlare di tutti appunto quelli che citeremo, di tutti singolarmente, no? Con degli esempi di gioco più approfonditi, diciamo, per ciascuno di loro in un futuro non meglio identificato di questo canale. Quindi ecco, questo è l'ultimo episodio appunto in cui parliamo, diciamo, di giochi, come potremmo dire, parliamo di giochi così indietro, così indietro nel tempo, da rendere la loro fruizione intera oggi un'operazione più archeologica, diciamo, più di studio che di divertimento. Ecco, mettiamola in questo modo. A partire dal prossimo quinquennio, invece, iniziamo a parlare di giochi che sono tranquillamente giocabili, secondo noi, oggi, per puro e semplice divertimento, come si giocherebbe una nuova uscita. Ecco, forse questo è il modo migliore, il modo migliore per metterla giù. Quindi, insomma, vogliamo, no, ai giochi, ai prossimi giochi, vogliamo dedicare più spazio, quindi dedicheremo a ognuno di loro dei video e non ci limiteremo ai piccoli assaggi che vi stiamo offrendo in questa serie. Allora, prima di entrare nel vivo e di parlare dei più importanti giochi usciti nel corso di questo quinquennio, e sono parecchi, come avremo modo di vedere, facciamo un po', facciamo un po' un quadro della situazione. Sono anni di importanza fondamentale per il videogioco in generale, quelli di cui stiamo per parlare, quelli di cui stiamo, di cui parleremo in questo video, e cioè gli anni fra il 90 e il 94, perché sono anni in cui inizia, c'è una vera e propria esplosione di creatività, no, nell'ambito del videogioco. Soprattutto vengono, iniziano a differenziarsi in maniera abbastanza chiara, i generi, e i generi iniziano ad avere delle caratterizzazioni che alla fine sono quelle che questi generi hanno ancora oggi. Quindi, per esempio, è in questi anni che nascono i primi veri giochi strategici, i primi veri giochi strategici a turni, i primi veri giochi strategici in tempo reale, va bene? Per esempio Warcraft, la serie Warcraft, nasce in questi anni, va bene? In questi anni nascono i primi sparatutto in 3D, va bene? Abbiamo Wolfenstein 3D, per esempio, abbiamo Doom, no? Per quanto riguarda gli strategici, scusate, non ho parlato, non ho citato Civilization, no? Strategico a turni, ancora oggi dotato di un seguito, ancora oggi più vivo che mai, no? Nel momento in cui stiamo realizzando questo video, siamo alla fine di marzo del 2021, è il sesto capitolo di Civilization, è in pieno ancora sviluppo e in piena espansione. Abbiamo anche una grande novità tecnologica che asseconda questa appunto sorta di canonizzazione, potremmo chiamarla così, dei generi. E questa novità tecnologica, signori, è l'arrivo del CD-ROM e guardate che è una rivoluzione non indifferente, va bene? Fino a questo momento i videogiochi dovevano stare su supporti piccolissimi, piccolissimi in senso proprio di dimensioni in termini di byte, diciamo, che potevano ospitare, col CD-ROM, no? Che oggi ci sembra una roba preistorica il CD-ROM, ci sembra una roba piccolissima il CD-ROM stesso, no? Cioè non riesce neanche a tenere un giga di dati oggi i giochi. Pensate che ancora una volta nel momento in cui stiamo girando questo video è appena uscita una patch molto attesa per Cyberpunk 2077 e pesa non so quanti giga, cioè ci vorrebbero pile di CD-ROM solo per la patch, figuriamoci per il gioco intero. Però siamo in un'epoca completamente diversa, no? L'epoca del floppy, l'epoca delle piccole memorie era caratterizzata da scelte di design che erano fortemente influenzate da quello, cioè da quanto spazio si aveva a disposizione in termini di byte, no? Negli scorsi episodi abbiamo citato giochi che implementavano descrizioni testuali al loro interno, ma non erano presenti nel gioco vero e proprio, erano presenti nel manuale. Quindi a schermo ti usciva, leggi pagina 32, va bene? E dovevi andare nel manuale a leggere pagina 32, perché mettere del testo pensate, no? Cioè cose che oggi, no? Oggi il testo insomma ha un peso talmente irrilevante, no? C'è nessuna limitazione nel mettere testo in qualunque tipo di software, non solo in un videogioco. Invece all'epoca bisognava fare i conti con queste limitazioni. Quindi pensate all'arrivo, no? Di supporti, di un supporto come il CD-ROM come ha ampliato le possibilità, no? I videogiochi iniziano ad avere per esempio firmati introduttivi, no? Iniziano ad avere firmati introduttivi anche molto pesanti. All'epoca io mi ricordo che alcuni giochi, anche giochi strategici, anche giochi gestionali, è un po' buffa, no? Come, come, è un po' buffo come ricordo. Ricordo che il filmato iniziale pesava più di tutto il resto del gioco, va bene? Quindi in fase di installazione ti usciva una finestrella che diceva, ma vuoi installare, vuoi che copie nel disco fisso anche il filmato iniziale? Guarda che pesa 300-400 mega, eh? Il filmato iniziale. E il resto del gioco magari pesava 100 mega, per dire, va bene? Quindi, no? Iniziano ad essere possibili queste sciccherie che prima erano assolutamente improponibili, no? Un filmato iniziale magari realizzato anche con attori in carne e ossa, no? Si comincia a fare anche questa cosa. Oppure l'utilizzo di musiche vere, no? Musiche non semplicemente midi, va bene? Ma musiche vere e proprie, no? Composte per il gioco, no? Tutte cose che appunto oggi diamo per scontate, ma che sono state il frutto di sviluppi tecnologici molto precisi, va bene? Poi pensate, il 1990 è anche l'anno in cui, per così dire, nasce ufficialmente il World Wide Web, il World Wide Web per il grande pubblico, grande, insomma, per quanto potesse essere grande il pubblico del 1990, che era infinitesimale rispetto al pubblico odierno, pubblico informatico intendo, no? Pubblico dotato di strumentazione informatica. Però appunto è in questi anni che nascono i primi siti internet, va bene? E sempre in collegamento con la nascita del CD-ROM. Sapete che c'è un elemento importante da considerare quando si parla della nascita del CD-ROM, che ha influenzato tantissimo la diffusione del nostro hobby, del gioco di ruolo, del videogioco in generale, ma anche del gioco di ruolo in particolare. E cioè, con la nascita del CD-ROM, con l'arrivo, con la presenza sempre più frequente del lettore di CD-ROM nel proprio computer, inizia a partire una tendenza, che è quella di allegare dei CD-ROM alle riviste di settore, no? Chi è della mia generazione, insomma, si ricorderà il fatto che si correva in edicola a comprare la rivista, a volte non tanto per la rivista, spesso ovviamente anche per la rivista, ma più per appropriarsi di questo CD-ROM, no? Allegato alla rivista. Il CD-ROM allegato alla rivista, allora, più avanti rispetto all'epoca di cui stiamo parlando, nel CD-ROM si trovava, era comune trovare un gioco completo, no? In regalo con la rivista. Negli anni di cui stiamo parlando, era molto raro, se non quasi impossibile trovare dei giochi completi. Però questi CD-ROM erano pieni di patch, va bene? Quindi diventa possibile patchare i giochi, guardate che fino a questo momento, no? Era... cioè, il gioco era quello, insomma, quindi era impossibile poi correggere, no? Successivamente degli errori, va bene? Adesso, grazie al CD-ROM, anche chi non è connesso alla rete, cioè quasi tutti, perché pochissimi in questi anni non sono, cioè la rete... l'internet esiste, diciamo, ma pochissimi sono connessi a internet, perché la connessione è molto costosa, no? La tecnologia non è pronta ancora, però esistono questi CD-ROM che sono accessibili molto facilmente attraverso le riviste, no? Quindi si trovano le patch, gli aggiornamenti, nuovi scenari e soprattutto, signori, questi CD-ROM hanno i mitici shareware, va bene? Cioè, praticamente sono dei demo, no? Sono dei demo che si possono installare, giochi solo un pezzetto, tipo, oppure giochi senza avere alcune funzionalità e devi pagare per avere le funzionalità intere, va bene? E spesso, attenzione, tu ti compri le funzionalità intere dei giochi pagando, tipo, con una carta di credito e ti arriva un codice via email, no? Quindi magari è difficilissimo, cioè, nessuno in questo periodo ha la connessione internet continua, no? Che abbiamo oggi, che permette di vedere roba in streaming, film, video come quelle che state vedendo adesso, no? Quella è una roba ancora di là da venire. Ci sono connessioni che costano molto, ci si connette raramente e in quei minuti in cui si è connessi si scaricano le mail che poi rimangono nel proprio computer. Però, ragazzi, questo significa tagliare fuori gli intermediari, no? Cioè, tu produci il tuo demo, il tuo shareware, lo distribuisci in tutto il mondo per il tramite delle riviste fisiche vendute nelle edicole, va bene? E poi, quelli a cui questo gioco piace possono comprarsi la versione completa direttamente da te, tramite una semplice email. È una rivoluzione nel modo in cui sono venduti i videogiochi, nel modo in cui questa passione si diffonde anche, no? Pensate a quante persone si comprano la rivista di informatica non perché sono interessati ai videogiochi, ma perché magari la rivista di informatica parla del sistema operativo, del computer, no? Da consigli tecnici, i programmi di videoscrittura, i programmi di grafica, eccetera. Poi però nel CD Roma Allegato si trova la demo di un gioco, no? Trova la demo di un gioco, prova la demo di un gioco ed entra in questo mondo, no? Quindi è anche così, diciamo, che questo hobby inizia a diventare sempre più diffuso, no? E sono novità che vengono introdotte proprio in questi anni, va bene? Ah, tra i giochi mitici e importantissimi che non abbiamo citato prima, abbiamo citato, nascono in questi anni, stavamo dicendo, serie come Warcraft, come Civilization, Doom, però attenzione, il 1993 è l'anno di Myst anche, eh? Myst è un'avventura grafica, va bene? Secondo me Myst è proprio uno di quei gateway, no? È proprio uno di quei, di quei, di quei giochi che hanno portato nel lobby tantissime persone che forse mai avrebbero pensato di poter essere interessate, no? A questo hobby. Myst è un'avventura grafica e in pratica è un'esperienza enigmistica, è un'esperienza di carattere enigmistico, va bene? Che secondo me chiunque, no? Abbia, abbia esperienza con l'enigmistica può, può in qualche modo apprezzare, no? Una sorta di esperienza enigmistica interattiva, no? Un'avventura con degli enigmi e ha avuto un successo incredibile, complice appunto il suo aspetto anche avveniristico per l'epoca, no? Una sua grafica così straordinaria per l'epoca. Va bene signori, ma adesso basta con le introduzioni di carattere generale, entriamo nel vivo del nostro viaggio in questo quinquennio e cominciamo naturalmente dalla serie di videogiochi di ruolo per antonomasia di questi anni. L'ho chiamata nel video scorso la serie di Elder Scrolls, no? Degli anni 80-90 è la serie ultima, va bene? Ed escono ben tre capitoli della serie ultima nel quinquennio di cui stiamo, di cui ci stiamo occupando. E il primo di cui parleremo è Ultima 6, The False Prophet. Ultima 6, The False Prophet, è del 1990 e continua, diciamo, la tradizione, per così dire, di questa incredibile serie di giochi di ruolo per computer, la tradizione di cercare di introdurre innovazioni in ogni capitolo, no? E Ultima 6 è particolarmente rivoluzionario dal punto di vista appunto del suo approccio verso la giocabilità. La sua novità più importante è che scompare la doppia dimensione del mondo, no? Abbiamo visto, vi ho fatto sperimentare in prima persona, per così dire, tre giochi della serie Ultima, vi ho dato tre piccoli assaggi, no? Del gameplay di questa mitica serie di giochi di ruolo del passato nei scorsi video che vi invito a recuperare. E se li avete visti, se c'eravate, no? Se avete sperimentato questi giochi in prima persona, sapete che i primi giochi Ultima erano basati su una mappa generale, diciamo, che all'epoca, che al tempo del primo Ultima fu una grande novità, no? Cioè non c'era solo il dungeon come nei primi appunto giochi di ruolo, c'era anche una mappa del mondo, no? Quindi si girava, si andava in giro per città, castelli, però la mappa del mondo era, diciamo, in una determinata scala, no? E il personaggio era una semplice pedina. Poi quando si entrava in un castello, in una città, si cambiava mappa, no? La mappa era, diciamo, si zoomava in un certo senso, no? All'interno la città era rappresentata nella mappa del mondo da un'icona, poi si entrava in città e la città diventava una vera città, no? Con edifici, personaggi, eccetera. Ecco, tutto questo, signori, in Ultima 6 scompare. Il mondo è rappresentato nella sua interezza tramite una semplice, potremmo dire, ma in realtà non tanto semplice, prospettiva isometrica dall'alto, va bene? Molto obliqua, ok? È una caratteristica proprio degli Ultima, no? Da questo momento in avanti, avere questa visuale isometrica particolarmente obliqua, no? Una visuale particolare che permette però di analizzare, diciamo, i dettagli dell'ambientazione in maniera molto calibrata e attenta, diciamo. Quindi non c'è più questo cambio di prospettiva, c'è un mondo rappresentato nella sua interezza con lo stesso tipo di scala, diciamo. E questa è una novità incredibile, no? Si entra in una città senza cambiare schermata, va bene? La città come sarà poi in Baldur's Gate, no? Come sarà poi nei giochi con visuale isometrica di tutti, insomma, di tutti gli anni successivi, degli anni d'oro del cosiddetto rinascimento, no? Del gioco di ruolo per computer inaugurato appunto da Baldur's Gate, ma di questo parleremo nel prossimo video, ovviamente. Quindi questa è una novità, è una novità incredibile che permette, peraltro, ai programmatori di questo gioco di inserire tutta una serie di altre novità conseguenti, no? Il combattimento si svolge anche quello nella vedesima schermata senza che ci siano diversi, senza che ci siano cambi di prospettiva, è un combattimento a turni, va bene? E l'interattività con lo scenario è portata a livelli mai visti prima, va bene? Quasi tutti gli elementi a schermo possono essere spostati, combinati. Questo arriverà proprio all'apice nel capitolo successivo, no? Come vedremo di questa serie. Un altro elemento però importante di Ultima 6 è il suo elemento tematico, il suo contenuto. Sapete che Richard Gerriott, no? Il padre, l'autore, nei primi Ultima lui è veramente l'autore di tutto, va bene? Adesso inizia a essere il capo già, no? Di una squadra, diciamo, di designer molto numerosa, quindi diciamo che lui dà il suo input ma poi la programmazione è fatta da... è fatta fisicamente, per così dire, da altre persone. Dicevo, Gerriott ha sempre prestato una notevole importanza, almeno a partire da... potremmo dire a partire dal quarto capitolo, forse anche dal terzo un po', ma insomma, soprattutto a partire dal quarto, al contenuto, no? Al tema, diciamo, dei suoi giochi. E questo si vede molto bene anche nel sesto capitolo della serie Ultima. Allora, questo gioco inizia con questo spunto. Sono arrivati a Britannia, no? Il mondo fantasy dove è ambientato il gioco, almeno a partire dal terzo capitolo, se non ricordo male, quarto? Quando è che inizia a essere ambientato a Britannia? Perché all'inizio si è ambientato a Sosaria. Vabbè, insomma, comunque non importa. Dicevo, quando il gioco è ambientato a Britannia, Britannia è invasa dai gargoyle. Da questi mostri, no? Con le corna, le ali, sembrano dei diavoletti, va bene? E il compito dell'avatar, no? L'eroe del gioco, è cercare di salvare Britannia da questi gargoyle. Sembra il più... come dire, lo spunto più pieno di cliché in assoluto, no? Arrivano i mostri, bisogna difendere il mondo dai cattivi. In realtà, però, sapete cosa succede? Che nel corso del gioco, si scopre che in realtà i gargoyle hanno tutte le ragioni del mondo ad avere invaso Britannia. Perché è Britannia che si è macchiata di un crimine nei confronti dei gargoyle. E i gargoyle, che hanno questa apparenza mostruosa, in realtà sono semplicemente una sorta di altra civilizzazione, no? Hanno letteratura, hanno una cultura, hanno un linguaggio, va bene? E lo scopo dell'avatar, quando viene... dopo che ha fatto questa scoperta, è cercare di far convivere questi due mondi, non cercare di annichilire uno a favore dell'altro, va bene? La trama è estremamente duttile, no? È possibile saltare parti di trama lunghissime e finirla in pochissimo tempo, va bene? Oppure è possibile un approccio completamente diverso, ignorare la trama, girare per il mondo, combattere mostri. È un open world, ultima 6, che comincia a essere open world, come i giochi open world, che consideriamo oggi, no? Come i giochi world driven, diciamo, di Bethesda, odierni, va bene? Quindi è veramente... ecco, è interessante perché in questo... sapete che noi stiamo usando come sorta di guida, no? In questo viaggio nella storia, il CRPG Book, va bene? Guardatevi il primo video di questa serie per sapere un po' meglio di che cosa si tratta, cos'è questa pubblicazione, qual è il suo... la sua storia, diciamo. Comunque c'è un pezzetto di intervista a Garriott, riportata nell'articolo, nella recensione di Ultima 6, in cui Garriott dice che quando ha pensato appunto al tema di questo gioco, voleva diciamo tradurre in termini videoludici le sue riflessioni sul problema del razzismo, no? Questo è molto interessante. I gargoyle sembrano mostri, quindi tutti sono portati a pensare che siano mostri, cioè che siano cattivi, no? Perché hanno l'aspetto dei cattivi. Ma questa è un'operazione, no? Assegnare un significato, diciamo. Stiamo giudicando un libro dalla copertina, quando giudichiamo la moralità di una persona dal suo aspetto, per così dire. Ed è interessante, no? Il gioco si occupa proprio di questo tema, così interessante, così attuale all'epoca, ma anche oggi, ai noi, va bene? Bene, signori, questo è Ultima 6 e adesso, anziché seguire i giochi di cui citeremo in ordine cronologico, voglio prima parlare di tutta la serie Ultima, così facciamo un discorso un po' più organico. Quindi, signori, passiamo al capitolo successivo della serie Ultima 7 del 1992, ed è anche questo un gioco che rivoluziona, diciamo, la serie e che ancora oggi è nella mente di molti come il capitolo più riuscito, forse, di tutta la serie. Quindi, signori e signori, ecco a voi Ultima 7. Ultima 7, signori, ha avuto una storia, diciamo, una storia connessa alla sua pubblicazione un po' complicata, quindi cerchiamo prima di tutto di raccontare questa storia. Allora, intanto il gioco, diciamo, base esce nel 1992, si chiama, ha come sottotitolo The Black Gate, va bene? Nel 1992, sempre, credo, o 93, non so, qui non è scritto, comunque adesso esce un'espansione, presumo sempre tra il 92 e il 93, diciamo, esce un'espansione che si chiama Forge of Virtue, va bene? E poi esce un secondo capitolo, però sempre di questo capitolo, va bene? Cioè l'ultima successivo a Ultima 7, non è Ultima 8, è Ultima 7 Part 2, che si chiama Serpent Isle, ed è a tutti gli effetti un altro gioco, come mai succede questa cosa? Allora, dovete sapere che il successo di Ultima è tale in questi anni che iniziano a nascere degli spin-off della serie. Degli spin-off, beh, c'è uno spin-off molto importante di cui parleremo fra poco, che si merita, diciamo, grande attenzione, che si chiama Ultima Underworld, ma ci sono anche degli spin-off che sono in realtà delle avventure grafiche, diciamo, ambientate nel mondo di Ultima. e si hanno come titolo Worlds of Ultima e poi un sottotitolo. La prima esce proprio nel 90 e si chiama The Savage Empire, poi ne esce un'altra, vediamo se la trovo, che si chiama Martian Dreams, vi voglio dire, eccola qua, Martian Dreams è del 1991. Sono appunto degli spin-off. Ecco, Serpent Isle doveva nascere come ulteriore, no scusa, sì, Serpent Isle doveva nascere come ulteriore spin-off della serie ultima, doveva nascere come ulteriore episodio della serie di spin-off World of Ultima. Poi però il gioco viene così approfondito dal punto di vista del role-playing che Origins decide di farlo uscire, o almeno inizialmente ha come idea quello di farlo uscire come Ultima 8. Cioè, no, era stato sviluppato talmente bene da poter uscire come nuovo capitolo della saga. Però Richard Garriott blocca tutto perché dice che nessun capitolo di Ultima deve avere esattamente lo stesso motore di gioco di quello precedente. Prima ne stavamo parlando che Garriott fa proprio un punto d'onore del fatto che ogni gioco della sua serie deve rivoluzionare qualcosa, no? E a questo punto viene fatto uscire Serpent Isle come Ultima 7 capitolo 2, va bene? Quindi è un po' intricata, no, la faccenda. Comunque signori, com'è Ultima 7? Ultima 7 è un gioco pazzesco per l'epoca, che introduce tantissime novità che fanno la storia e che si radicano nello standard proprio della creazione di giochi di ruolo per computer. Torna la visuale isometrica dall'alto, che abbiamo già visto in Ultima 6, torna il mondo rappresentato tutto con la stessa prospettiva, no? Quindi già, diciamo, raggiungimenti ottenuti dal capitolo precedente, ma vengono introdotti intanto moltissime interazioni con l'ambiente circostante, forti del fatto che il gioco è interamente controllato tramite mouse. Ultima 6 da questo punto di vista era un po' ibrido, bisognava ancora in Ultima 6 conoscere delle scorciatoie da tastiera per attivare determinate funzionalità. In Ultima 7 la tastiera può essere completamente abbandonata, il gioco è interamente controllabile tramite mouse. Quindi tramite mouse ci si sposta, tramite mouse si raccogliono oggetti, si spostano oggetti. È possibile mettere una roba da qui a qui, va bene? È possibile combinare fra loro, è mitico, no? E viene ricordato ancora oggi come un raggiungimento incredibile, il fatto che in Ultima 7 si può fare il pane, va bene? Si può mietere il grano, no? Cioè proprio tutte le tappe per farsi il pane, che poi può essere mangiato, va bene? Si può tosare una pecora, per dire, no? Si possono fare... si può intraprendere una carriera come contadino e crescere le... è una specie... ecco, uno dei programmatori lo dice direttamente, no? In una sua intervista. Ultima 7 è stato allo stesso tempo un grande gioco di ruolo e anche il primo forse sim, no? Il primo gioco che ha simulato appunto la possibilità di una vita virtuale. Non solo, attenzione, nelle forme delle azioni che può compiere il protagonista, ma anche e soprattutto nel modo in cui il mondo agisce, diciamo, autonomamente. Ultima simula il suo mondo e soprattutto il comportamento dei personaggi presenti all'interno del suo mondo. In maniera, ragazzi, assolutamente... cioè c'è proprio una routine seguita dai personaggi. Beh, per rivederla in un gioco moderno, forse Gothic, abbiamo dovuto aspettare. Certo, non c'è nulla di simile, per esempio, nella serie Baldur's Gate, no? Nei giochi infiniti non c'è nulla di simile, va bene? Quindi la serie Gothic, forse, no? È la prima serie. Nella serie di Elder Scrolls, Oblivion, no? È il primo gioco 2006, quindi voglio dire molti anni dopo, no? A implementare queste routine così elaborate, no? Ecco, c'era già tutto in ultima sette, no? Le persone la sera vanno a dormire, i personaggi non giocanti, si svegliano la mattina dopo, vanno nel negozio, chiudono casa a chiave, no? E il protagonista deve inserirsi all'interno di questo mondo e può interagire con questi personaggi in tanti modi, non ultimo, tramite un nuovo sistema di dialogo, che non prevede più da parte dell'utente la digitazione di input, no? Che possono... che è un metodo macchinoso che in teoria consente molta libertà, poi in realtà in pratica si traduce semplicemente in tanta macchinosità, no? Bisogna ricordarsi certe parole chiave, scriverle nella finestra di dialogo a tutti. No, 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 qui, come dicevamo, domina il mouse, quindi si parla con una persona, esce una lista di argomenti, no? Come succede un po' in Morrowind, no? Negli anni, negli anni successivi, lista di argomenti, si clicca su ogni argomento con il mouse e il personaggio avrà qualcosa da dirci, va bene? La scrittura è molto piacevole da leggere, con questo inglese, no? Sempre old-fashioned, come nello stile di Garriott fin dai primi capitoli della serie. E, signori, anche dal punto di vista del tema, della storia, qui c'è una cura veramente notevole del dettaglio. Il gioco affronta temi anche difficili, no? Intanto è, come dire, non si preoccupa di rappresentare momenti anche molto sanguinolenti, ma affronta temi come la dipendenza da droghe, il razzismo, la discriminazione, già temi toccati, no? Dal capitolo precedente. Ultima sette, signori, è un gioco pazzesco, forse il gioco che, appunto, più di tutti ha segnato un'epoca, ed è talmente importante che vogliamo farvelo vedere. Quindi, signori, entriamo insieme nel mondo di Ultima sette. Signori e signori, ecco a voi il menu principale di Ultima sette, con, vabbè, The Black Gate è il sottotitolo del gioco base, The Forge of Virtue è l'espansione. Allora, vi voglio dire che qui stiamo usando la versione di Good Old Games, va bene, che potete far partire così direttamente e dovrebbe funzionare senza troppi problemi. Però sappiate che c'è un emulatore fatto dai fan, che si chiama Exult, che aggiunge, diciamo, delle ulteriori funzionalità, rende il gioco più stabile, più giocabile sui sistemi moderni. Richiede un'installazione un po' elaborata, è un po' tipo il procedimento, no? A livello di complessità, lo stesso procedimento del modding. No, non voglio vedere l'intro, scusate, ogni tanto, se rimani nel menu principale, ogni tanto parte l'intro del gioco. Io non vi farò vedere l'intro per non, per non rendere troppo lungo, diciamo, questo piccolo assaggio del gioco. Quindi, dicevo, avete due opzioni se volete provare questo gioco al giorno d'oggi. Prendervi la versione di GOG e giocare direttamente quella che usa DOSBox, oppure prendervi questo emulatore fatto dai fan, che si chiama appunto Exult, va bene? Allora, signori, iniziamo un new game, direi, no? Senza tema di smentita. Il nostro nome è Moses, ok? Siamo male. Journey onward. E il gioco inizia in questo modo, no? Eccolo qua, con questi due personaggi che parlano. È scioccante, chi può averlo fatto? Non lo so, non aveva nemici. Povero uomo, cosa si può fare? E a un certo punto compare un portale e arriviamo noi. Eccoci qua. Noi siamo quel bel tomo lì biondo. E adesso parte questo dialogo, no? Questa conversazione. A rather large familiar man looks up and sees you. Un uomo piuttosto grosso, diciamo, è familiare, la faccia familiare, ti guarda. Clicchiamo. The shock that is evident from his dumbfounded expression quickly evolves into the light. He smiles broadly. E quello che all'inizio era shock, no? Diciamo sorpresa, diventa felicità, ok? Sorride, fa un sorriso a 42 denti, diremmo oggi. Sorride, no? Un bel sorriso largo, ok? Moses, if I did not trust the infallibility of mine own eyes, I would not believe it. Se non credessi all'infallibilità dei miei occhi, non ci crederei, ok? I was just thinking to myself, if only the avatar were here, and then, stavo giusto pensando, se solo l'avatar fosse qui, ed eccoti, no? L'avatar siamo noi, no? L'avatar è il nostro personaggio. Lo and behold, guarda, no? Guarda che roba, who says that magic is dying? Here is living proof that it is not. Chi dice che la magia sta morendo? Guarda, qui c'è la prova vivente che la magia non sta morendo, ok? Dost thou realize, Moses, that it hath been 200 Britannian years since we last met? Ti rendi conto, Mosè, che, Moses, che sono 200 anni britannici, che non ci vediamo? Why thou hast not aged at all? Non sei invecchiato per niente, no? Ci fa l'occhiolino in maniera cospiratoria. He whispers, sussurra, do no doubt to the difference in the structure of time in our original homeland and that of Britannia. Forse per via della differente struttura del tempo nella nostra homeland, quindi anche Yolo, presumibilmente, è uno che viene, diciamo, dal nostro mondo, no? Non è un nativo di questa, di quest'altra dimensione, no? In cui si svolge il gioco, Britannia. He resumes speaking aloud. I have aged a little as thou can see, ok? Sono un po' invecchiato, come puoi vedere, but of course I have stayed here in Britannia all this time, ma sono stato tutto il tempo qui a Britannia, va bene? Oh, but Avatar, wait until I tell the others they will be happy to see thee. Welcome to Trinsic. Ma aspetta che lo dica agli altri che sei arrivato, no? Saranno così felici di vederti. Benvenuto a Trinsic e scopriamo quindi che questa città si chiama Trinsic. Molto bene. A questo punto l'altro personaggio però interviene nel dialogo. The distraught peasant interrupts Yolo. Quindi questo personaggio si chiama Yolo, quello che ci ha riconosciuto, no? Ed era presente anche nei giochi precedenti della serie. Show him the stables, my lord. It is horrible. Mostra di le stalle ci dice questo altro personaggio, no? È orribile. Yolo nods. His joy fading quickly as he is reminded of the reason he was standing there in the first place. Sì, improvvisamente la gioia se ne va, no? Dal volto di Yolo, perché si ricorda il motivo per cui stava parlando con questo personaggio. Ah yes, our friend Petre here discovered something truly ghastly this morning. Il nostro amico Petre, questo altro peasant, ha scoperto qualcosa di terribile questa mattina. Take a look inside the stables. Guarda cos'è, cosa c'è nelle stables. Ti accompagnerò, va bene? Oh, e a questo punto, vedete, c'è stato un po' di flickering dello schermo, no? Non è un difetto del gioco, diciamo, è un effetto proprio evoluto dal gioco. E vedete, Yolo ci dice, all is not right in Britannia. C'è qualcosa che non va a Britannia. Perhaps Lord British will know the reason behind this tremor. Forse Lord British saprà la ragione dietro questi terremoti. Quindi quel flickering era un terremoto, diciamo, ogni tanto ci sono questi piccoli terremoti. E Yolo dice, Lord British magari ci aiuterà, no? Saprà come mai ci sono questi terremoti. Clicchiamo e adesso, vedete, scatta un altro dialogo perché arriva quest'altro personaggio. You see a middle-aged nobleman. No? Un nobiluomo di mezza età. Yolo, who is this stranger? Yolo, chi è questo straniero? Why, this is the Avatar. Yolo proudly proclaims, canst thou believe it? May I introduce the, this is Finnegan, the town mayor. Oh! Yolo fa le presentazioni. Questo signore che è arrivato adesso si chiama Finnegan ed è il sindaco, in pratica. E Yolo annuncia che noi invece siamo l'Avatar. Va bene? This is Moses, the Avatar. I simply cannot believe he's here, dice sempre Yolo. Non posso credere che sia qui. The mayor looks you up and down. Not sure if he believes Yolo or not. He looks at Yolo skeptically. Ci squadra dall'alto al basso il sindaco e non è sicuro se credere, no? A Yolo. E poi guarda Yolo. Con scetticismo. Ma Yolo dice, I swear to this, to thee, it is the Avatar. Te lo giuro, questo è l'Avatar. The mayor looks at you again as if you were studying every pore on your face. Ti guarda di nuovo come se stesse studiando ogni pore, ogni cellula della tua faccia. Finalmente sorride. Finally he smiles. Welcome Avatar. Benvenuto Avatar. But just as suddenly Finnegan's face becomes stern. Ma improvvisamente la sua faccia diventa preoccupata. A horrible murder has occurred. If thou art truly the Avatar, perhaps thou can help us solve it. C'è stato un terribile omicidio. Se tu sei davvero l'Avatar, forse puoi aiutarci a risolverlo. I would feel better if thou takest this matter into thine hands. Sarei felice se potessi prendere tutta questa faccenda nelle tue mani. Se tu, Avatar, potessi prendere questa faccenda nelle tue mani. C'è questo inglese sempre molto, no, molto old fashioned, molto medievaleggiante diciamo usato in questi giochi. Thou shalt be handsomely, scusate, rewarded if thou dost discover the name of the killer. Accetti, quindi sarai ricompensato, no, molto bene se scopri il nome dell'assassino. Accetti? E a questo punto possiamo scegliere. Beh, ovvio, accettiamo, siamo l'Avatar. Petre here knows something about all of this. Petre sa qualcosa. A questo punto tutto il video è di nuovo. Petre. I discovered poor Christopher and the Gargoyle in amo early this morning. Ho scoperto il povero Christopher e il Gargoyle in amo e questa mattina presto. I Gargoyle nel capitolo precedente della serie, ne abbiamo parlato nel video, erano i nemici in pratica all'inizio, però poi il gioco si è concluso con una pacificazione fra i Gargoyle e gli umani, per così dire. Quindi i Gargoyle vivono tranquillamente nelle città insieme agli umani, ok? E questo Christopher è stato ucciso insieme a questo Gargoyle appunto di nome in amo. Va bene. The mayor continues. Hast thou searched the stable? Ci chiede a noi. Hai già indagato cosa c'è nelle stalle? No, non abbiamo indagato. Then I suggest that thou lookest inside and talkest to me again. Quindi guarda quello che c'è dentro le stalle e poi parlami di nuovo. Oh, e a questo punto, signori, possiamo muoverci. Quindi funziona in questo modo, vedete? Cliccando con il destro e spostando il mouse mi posso muovere in quella direzione. Vedete? Yolo ci segue, no? Oppure posso anche usare, vedete, la tastiera. Ecco, adesso sto usando la tastiera e mi sto muovendo, vedete? E quando entro nella stalla, vedete? Vediamo che c'è questo uomo, no? Così ucciso, diciamo, sembra quasi un rituale, no? Notare che qui, allora, se clicchiamo sopra, vedete, viene semplicemente scritto che è una victim. Se facciamo doppio clic possiamo interagire, ma in questo caso non succede niente, viene sempre scritto victim. Qui però c'è una chiave, vedete? Se prendiamo la chiave, guardate, e ce la mettiamo addosso, l'abbiamo raccolta. Molto bene. Possiamo spostare tutto, è un mondo fortemente interattivo. Guardate, questo è un pitchfork e vedete, possiamo metterlo qui, tipo, ok? Solo per farvi vedere, guardate, qui c'è il gargoyle, il povero gargoyle. Possiamo spostare anche lui, guardate, tic, vedete, è tutto, no? No, in realtà non potevamo spostarlo lì, però possiamo spostarlo qui, forse. Must we do this? Dice il, non è d'accordo sul fatto che stiamo, che stiamo, muovere, possiamo muovere questo sacco, vedete? E qui c'è qualcosa, cos'è sta roba? Gargoyle jewelry, molto bene, ce la prendiamo, ok? E vedete, se io faccio doppio clic sul mio personaggio, si apre la sua paper doll, vediamo il nostro equipaggiamento, e se faccio doppio clic qui, si apre la sua borsa. Quindi dentro, vedete, abbiamo la, 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 la jewelry che abbiamo raccolto prima, no? Abbiamo, vedete, del pane, una mela, no? E possiamo spostare tutto anche all'interno del nostro backpack, va bene? E vedete, qui sembra che ci sia una traccia di sangue, guardate che va da questa parte, no? Quindi posso seguire questa traccia di sangue, esco per di qua, vedete? Qui c'è un cavallo, non si capisce se è vivo o morto, presumibilmente vivo, sì, vivo perché si muove. Vedete, si possono salire, possono salire i gradini, vedete così, se vado per di qua posso anche salire, vedete, questa scala e salire, vedete, sulla cima delle mura della città, là c'è il mare, guardate, con l'animazione delle onde, guardate che tutto questo era pazzeschissimo, eh, in questi anni, cioè questo livello di questa possibilità, no? Di non, di non cambiare mai prospettiva, di vedere tutto con lo stesso sistema grafico, di vedere tutto rappresentato, di avere tutto così fortemente interagibile. E guardate, i dialoghi, se faccio dopo clic su YOLO, vedete, funzionano per argomento, no? Un po' come in Morrowind, a parte quelli preimpostati, tipo quello iniziale, no? Vedete, possiamo chiedergli il nome, che lavoro fa, possiamo chiedergli questa città, e se guardate, se gli dico, gli chiedo di questa città, no? Lui ci dice la città è cambiata poco, anche se sembrano tutti un po' sulla difensiva, e quando ci siamo incontrati io ero solo venuto qui a trovare il mio amico Finnegan, che è il sindaco, se non ricordo male, che abbiamo incontrato prima. E vedete, a questo punto abbiamo dei nuovi argomenti, no? Quindi possiamo chiedergli Finnegan, possiamo chiedergli perché la città è sul defensive, c'è molto testo in questo gioco, ed è testo molto molto piacevole da leggere. Vabbè, signori, potrei anche cercare un combattimento, ma insomma direi che vi ho mostrato a sufficienza, anche perché non è quello il punto di forza di questo gioco. Quindi avete visto, diciamo, a sufficienza, avete avuto un piccolo assaggio sufficiente per capire di che pasta è fatto il mitico Ultima 7. Nel 1994 esce l'ottavo capitolo della serie Ultima, e signori iniziano a manifestarsi i primi problemi nello sviluppo della serie. L'ottavo capitolo si chiama Pagan, ha come sottotitolo Pagan, e è indicato oggi da tantissimi fan come un gioco riuscito solo in parte, un gioco riuscito solo in parte forse a causa di uno sviluppo troppo, come dire, accelerato, forse interrotto, quando avrebbe dovuto continuare ancora a lungo, diciamo. Comunque, la giocabilità cambia nuovamente, il motore di gioco cambia nuovamente, visuale isometrica dall'alto, ma con una inclinazione molto diversa rispetto a meno, come si può dire, meno obliqua rispetto a quella vista in Ultima 7, e per esempio il combattimento passa a essere in tempo reale, in realtà era già in tempo reale in Ultima 7, però aveva una sua lentezza nel modo in cui veniva concretizzato a schermo, invece il combattimento di Ultima 8 in tempo reale può tranquillamente essere definito hack and slash, è un combattimento molto veloce, in cui conta quasi solamente l'uso delle armi, la magia viene complicata troppo per essere considerata veramente utile. Scompare la possibilità per il personaggio, per il protagonista, per l'avatar, di essere accompagnato da altri personaggi, quindi scompare qualunque tipo di modalità di gestione di un party, il personaggio è da solo. La premessa narrativa è che c'è questa nuova entità malvagia che si chiama il Guardian, che per punire, vuole conquistare Britannia e per punire il fatto che l'avatar continua a mettere i bastoni fra le ruote, lo proietta in una sua dimensione, come una sorta di piano parallelo, appunto, che si chiama Pagan, un piano estremamente alieno, claustrofobico, difficile da interpretare, da gestire, da attraversare. Quindi il gioco ha questo senso di claustrofobia molto forte, è molto sanguinolento, è molto quasi splatter nel modo in cui rappresenta molte delle sue scene. Cosa c'è che non va in questo gioco? Beh, intanto c'è una scelta francamente strana, cioè quella di inserire nel gioco, in maniera anche abbastanza importante, cioè con un ruolo anche, diciamo, importante di spessore, è una componente platform, cioè l'avatar deve saltellare da tutte le parti continuamente, va bene? Forse per assecondare il successo che stavano avendo certi platform in questi anni, il gioco veniva preso in giro nei forum con il nomignolo Super... no, dov'è? Super Avatar Bros, no? È una sorta di storpiatura di Super Mario, Super Mario Bros. E poi appunto il, come dire, il rushed design, cioè il design accelerato troppo, insomma, fatto di corsa forse per soddisfare determinate date e determinati patti con il publisher, provoca anche la presenza di tantissimi plot hole di cui molti fan si lamentano, va bene? Quindi questo è un gioco, è il primo forse gioco della serie a essere fortemente controverso, no? Fino a questo momento, oddio, anche il secondo capitolo della serie ultima non è che avesse avuto sto successo incredibile e questo plauso unanime. Però ecco, Ultima 8 è il primo gioco della serie in cui la serie mostra un po', mostra un po' la... forse sapete qual è il problema? Che Ultima 7 aveva avuto un successo tale e un plauso tale, no? Che sarebbe stato veramente complicato, anche se tutto fosse andato bene nello sviluppo di Ultima 8, essere alla pari, no? Con il plauso appunto avuto da quell'episodio della serie. Però certo, siamo di fronte appunto al primo momento fortemente controverso e la controversia continuerà poi con la pubblicazione anche dell'ultimo capitolo di Ultima, Ultima 9, di cui parleremo nel prossimo segmento. Adesso invece vi voglio parlare di un importante spin-off pubblicato in questi anni della serie Ultima. È il mitico Ultima Underworld. Ultima Underworld non è realizzato direttamente dallo stesso team che realizza i giochi di ruolo della serie Ultima e viene pubblicato però da Origin System, quindi dal, come dire, dalla casa di produzione creata da Richard Garriott e gli sviluppatori si chiamano Blue Sky Productions. È un gioco del 1992 che nel 93 viene arricchito da un secondo capitolo che si chiama il primo Ultima Underworld ha come sottotitolo The Stigian Abyss, il secondo Ultima Underworld 2 ha come sottotitolo Labyrinth of Worlds. I due giochi sono abbastanza simili, il secondo introduce alcune quality of life improvement ma bene o male la struttura è quella. Ecco, questo gioco ha un'importanza fondamentale signori, nello sviluppo non solo del gioco di ruolo in realtà ma in generale di tutto il videogioco. È considerato il primo questo vero videogioco in prima persona interamente in 3D. Cosa intendiamo in questo? Allora, era una consuetudine fin da tempi preistorici, no? Rappresentare il dungeon nel gioco di ruolo con visuale in prima persona. Lo faceva perfino, pensate, prima ancora che nascesse la serie Ultima lo faceva a Calabat World of Doom, il proto-ultima di Richard Garriott. C'erano i dungeon in prima persona, va bene? Dungeon ultra-essenziali, rappresentati semplicemente da delle righe bianche a mostrare i percorsi delle pareti e a disegnare questi mostri, no? Topi, ladri, vi ricordate scheletri? Ecco, ma qui signori, cambia tutto. Perché non solo il dungeon, ovviamente, è molto più appariscente, bello, dettagliato, pieno di elementi interattivi, ma soprattutto il movimento del nostro avatar, letteralmente, visto che stiamo parlando della serie Ultima, è completamente libero. Quindi non c'è più quel movimento, cioè anche il padre di Doom, Wolfenstein 3D, che viene pubblicato successivamente, aveva, pur essendo considerato il padre della serie di Sparatutto in prima persona per antonomasia, aveva comunque il movimento fisso. Cioè, io sto guardando in questa direzione, clicco la freccia che va per di là e mi giro in questa direzione così, cioè a 90 gradi, va bene? Invece in Ultima, Underworld, ci si muove liberamente, va bene? Quindi non c'è nessuna, come si può dire, c'è nessuna griglia, no? Che stabilisce il nostro movimento, nessuna, nessun set di posizioni fra cui ci muoviamo. È tutto libero, va bene? Il dungeon può essere manipolato in mille modi, tutto è governato da un sistema fisico, si può nuotare, si può arrampicare se c'è un appiglio sulla parete, cercare il passaggio segreto, raccogliere muschi, licheni, fare pozioni. Quindi è veramente, è veramente un gioco che ha, cambiato proprio il modo in cui si realizzano, non giochi di ruolo in prima persona, ma videogiochi in prima persona, includendo in questo anche gli stessi sparatutto, d'accordo? Poi è molto curioso e interessante anche l'ambientazione di questo gioco. È ambientato interamente, no? In un mondo sotterraneo, quindi non esistono, non esiste, non esiste niente, diciamo, al di fuori di questo mondo sotterraneo. E questo mondo sotterraneo è popolato dai resti, ci sono creature che bisogna combattere e basta, no? Cioè non è un semplice... è un dungeon crawler perché siamo sempre nel dungeon, però non è che dobbiamo solo combattere in questo dungeon. Possiamo anche interagire con varie creature pacifiche e queste creature pacifiche sono ciò che resta di una sorta di esperimento utopistico, di costruzione, di civiltà sotterranee che dovevano vivere in pace perpetua. Un po' tipo i Volt, no? Di Fallout, che in teoria erano strutture per difendersi dalle... sono strutture per difendersi dalle radiazioni, in realtà sono più esperimenti, no? Spesso di carattere proprio sociologico, no? Etnografico, psicologico, va bene? Relativamente ai comportamenti... relativi ai comportamenti delle masse, ecco. Dentro Ultima Underworld troviamo resti di civiltà nati per questo motivo, quindi è interessante, scatenano molte riflessioni. Poi un altro elemento che mi sento di sottolineare di questo gioco è che esiste un modo per commerciare, ma non esistono soldi. Il commercio si fa sulla base, cioè si deve barattare, e il baratto funziona sulla base della disposizione che ha la creatura con cui stiamo barattando nei nostri confronti, magari per quello che abbiamo fatto, no? In precedenza. Quindi un oggetto può avere un altissimo valore per una creatura, perché magari ci siamo comportati bene con quella creatura, ma magari anche semplicemente perché, non lo so, quell'oggetto lì per quella creatura ha valore, mentre per un'altra non ce l'ha. Magari per le caratteristiche stesse della creatura con cui stiamo interagendo, no? Quindi anche questo è un gioco che premia moltissimo, questo, la creatività del giocatore, no? Le sperimentazioni, che ha al suo interno elementi anche estremamente fantasiosi, è veramente un... proprio un concentrato di creatività all'ennesima potenza unita, unito anzi, alla presenza di queste innovazioni tecnologiche così importanti, no? Questo movimento interamente libero in un ambiente tridimensionale, una roba che all'epoca si poteva fare solamente all'interno di un dungeon, no? Quindi è stata una bella idea quella di sperimentare queste novità. A volte gli sviluppatori fanno errori di... calibrano male le proprie ambizioni, no? Gothic 3, no? È forse un esempio eclatante di programmatori che hanno calibrato molto male le loro ambizioni, no? Ecco, qui, Ultima Underworld è un esempio di gioco in cui le ambizioni sono calibrate alla perfezione, va bene? Sarebbe stato molto difficile implementare questo modo di muoversi e di interagire con l'ambiente in un mondo esterno, aperto, col cielo, va bene? In cui ci si può muovere in ogni direzione, no? Il primo passo è farlo in un dungeon. Poi c'è anche tutto, questo ha come side effect, come effetto collaterale, tutto un solleticare, una sorta anche di effetto nostalgia, no? Poteva già esserci in quest'epoca, a noi magari può sembrare strano oggi, ma poteva già esserci in quest'epoca chi aveva nostalgia dei primi giochi di ruolo, che alla fine erano dei dungeon puri e semplici, va bene? Quindi è come se Ultima Underworld sia la versione upgraded, no? Vi ricordate dei primissimi, giochi di ruolo che abbiamo raccontato in questa serie. È veramente un gioco di importanza notevolissima. Diamo un'occhiata a come evolve nel corso di questo quinquennio un'altra serie importante di giochi di ruolo per computer di cui abbiamo parlato nei video scorsi, la serie Wizardry. Escono due episodi della serie Wizardry nel quinquennio di cui ci stiamo occupando. Il primo Wizardry 6 esce nel 1990 e ha come sottotitolo Bane of the Cosmic Forge, mentre Wizardry 7 esce nel 1992 e ha come sottotitolo Crusaders of the Dark Savant. Ecco, entrambi questi giochi sono del programmatore che aveva già fatto l'ingresso nella serie nel capitolo precedente. È David Bradley ed è un programmatore estremamente creativo che, come dire, mette la sua impronta sulla serie. Abbiamo raccontato nello scorso video le modalità un po' rocambolesche con cui David Bradley diventa un programmatore e l'autore dei nuovi capitoli di questa serie. Però ecco, questo programmatore così creativo riesce a inserire i suoi nuovi elementi all'interno di questi giochi pur mantenendo comunque il nucleo centrale della giocabilità di questi titoli. Quindi Wizardry rimane un gioco party based. Rimane un gioco, per certi versi, arretrato rispetto a altri titoli che escono in questo periodo. Per esempio, continua ad avere il suo movimento fisso. Prima parlavamo di Ultima Underworld, di come rinnova fortemente le modalità in cui si approccia la giocabilità in prima persona in un mondo tridimensionale. Ecco, Wizardry continua ad avere la sua visuale in prima persona pur essendo party based, però ha ancora la sua modalità di movimento classica. Quindi ha caselle, potremmo dire. E ha ancora le sue modalità di combattimento classiche. Quello che è interessante è appunto il fatto che comunque questo programmatore, questo David Bradley, si dimostra capace di inserire nuova linfa, nuova vitalità all'interno di queste modalità di gioco, alla fine così classiche, continuamente e senza paura di fare sperimentazioni anche ardite per certi versi. Forse la novità più importante, per esempio, del sesto capitolo di questa saga, della saga di Wizardry, è il fatto che i capitoli precedenti erano tutti un po' basati sulla classica routine del entra nel dungeon, esploralo per un po', raccogli tanti tesori e poi quando è ora di vendere i tesori e riposarti torna in città, va bene? Questo diventa impossibile in Wizardry 6, perché appena entriamo nel dungeon, Wizardry 6 è costituito da un unico dungeon, appena entriamo nel dungeon la porta del dungeon si chiude dietro di noi, non possiamo più uscire. Quindi dobbiamo per forza trovare tutte le risorse di cui abbiamo bisogno all'interno di quel dungeon, va bene? Il gioco è old fashioned anche nel modo in cui per esempio richiede molto al giocatore in termini di orientamento, è necessario disegnare mappe, prendere appunti, bisogna ricordare tanti dettagli che ci vengono detti nel corso dei dialoghi, però ecco si aprono tantissimo, si moltiplicano tantissimo le possibilità offerte al giocatore in termini di scelta di razza, in termini di scelta di classe, di composizione del party, il modo in cui si svolgono i combattimenti, i minigiochi, questo gioco ha anche dei minigiochi per esempio per lo scassinamento, va bene? Che sono molto ben inseriti all'interno dell'atmosfera del gioco. Il menu viene ampliato ulteriormente con il settimo capitolo che è l'ultimo della serie realizzato da Bradley, che mantiene la sua impostazione un po' old style, un po' old fashioned per certi versi, ma ci porta fuori dal dungeon e aumenta a dismisura le variabili mettendoci davanti un intero pianeta da esplorare, va bene? Con tutti i pro e i contro, no? Anche qua esiste, viene introdotto un sistema di automapping, diciamo, di mappatura automatica che però è efficiente solo se è un'abilità, quindi bisogna investire tanti punti abilità, è efficiente solo se si investono tanti punti abilità, se no meglio disegnare le proprie mappe come prima, va bene? Alcuni elementi necessari anche per il proseguimento della trama sono così ben nascosti in questo mondo così enorme, no? Che senza guida è praticamente impossibile risolvere questo gioco. Però ecco, è interessante che, come volevo dare testimonianza non solo di pietre miliari che cambiano tutto, che sparigliano completamente le carte in tavola, ma anche di giochi che continuano, no? Una certa tradizione, avendo comunque un grande seguito e riuscendo comunque a avere su di sé anche un notevole applauso da parte della critica e in questi anni la serie Wizardry è sicuramente, rientra sicuramente in questa fattispecie che abbiamo appena descritto. Tra il 1991 e il 1993 viene pubblicata una serie di videogiochi di ruolo che è ancora adesso nella memoria di tanti appassionati. È la serie The Eye of the Beholder. È un'altra serie di giochi di ruolo ambientata nel mondo di Dungeons & Dragons, nei Forgotten Realms, e basata sul regolamento di Dungeons & Dragons. In realtà ci sarebbe da dire qualcosa riguardo a questo, eh? Il gioco, questa serie non tenta una trasposizione su schermo del regolamento di Dungeons & Dragons. Diciamo che è ispirata, cioè ha la licenza di Dungeons & Dragons, e si ispira a quel regolamento. Le classi hanno quel nome, però molte regole sono completamente ignorate, quindi non lo definirei un tentativo di trasporre su schermo il regolamento di Dungeons & Dragons, ma più appunto una sorta di così, di loose inspiration, di vaga ispirazione a quel regolamento. È un gioco party-based, anzi è una serie party-based. Ecco, uno degli elementi più importanti di questa serie, il primo capitolo esce nel 1991, il secondo ha come sottotitolo Legend of Darkmoon, ed è sempre del 91, e il terzo capitolo ha come sottotitolo Assault on Myth Drenor, ed è del 1993. Ecco, una cosa interessante di questa serie è che può essere giocata tutta con lo stesso party, cioè è possibile importare, come i due Baldur's Gate, non è possibile importare il proprio... beh no, là si importa solo il personaggio in realtà. Qui funziona così, si crea un party di quattro personaggi, che può arrivare a sei con i personaggi che si possono arruolare al proprio party, o che possono essere evocati dal nostro party. Quindi è possibile creare sto party, sto gruppo di avventurieri di quattro personaggi, e portarselo attraverso tutti e tre i giochi della serie. Il terzo capitolo è ritenuto da tutti molto inferiore rispetto ai primi due, ha anche degli sviluppatori diversi, delle storie, una storia produttiva particolare. Quindi diciamo che molti considerano canon solamente i primi due, però vabbè, c'è anche il terzo capitolo, e si può importare il party anche nel terzo capitolo. E' interessante perché c'è un... ah, tra l'altro è stato realizzato dagli studi Westwood, uno studio che avrà una grande fortuna negli anni successivi, anche se poi viene pubblicato da SSI, va bene? Però appunto quella è l'etichetta, sono i produttori, diciamo, l'etichetta di pubblicazione. Stavo dicendo che per chi oggi, insomma, frequenta, ha frequentato tanti videogiochi ambientati nei Forgotten Realms. Appena legge, no? Anche solo un riassunto della trama si sente subito a casa. Per esempio, il primo capitolo è ambientato nella città di Waterdeep, va bene? Quindi una città che abbiamo visto in tanti altri giochi. C'è questo Beholder, no? Che ha messo Sutana, diciamo, nelle sewers, nelle fognature, nel sistema fognario della città. Quindi il primo gioco si risolve fondamentalmente nella necessità di entrare in questo dungeon e ripulirlo dei mostri. Il gioco è abbastanza classico, poi, no? Ha una visuale in prima persona, pur essendo party-based. Il combattimento è in tempo reale, va bene? Quindi bisogna reagire con una... come dire? È in tempo reale ben scandito e sufficientemente lento da permettere un minimo di pianificazione, va bene? Gli incantesimi vanno preparati in precedenza, no? Come da tradizione Dungeons & Dragons e possono essere lanciati nel corso del gioco. Ecco, è un gioco questo che, proprio anche solo in termini di nome, di titolo, si è radicato molto nell'immaginario collettivo dei videogiocatori presenti in questi anni. Quindi era giusto, ovviamente, farne menzione in questa serie. Uno dei giochi a cui siamo più affezionati di questo quinquennio, pur non avendolo poi mai giocato nella sua interezza, ma siamo molto affezionati a questo gioco solo per averlo studiato, solo per avere indagato un po' la sua identità e anche averlo un po' provato, insomma, spizzichi e bocconi, ma senza averlo realmente giocato dall'inizio alla fine. Signori, è Darklands. Darklands è veramente un unicum nella storia del nostro hobby e all'epoca non ha avuto la ricezione e la risonanza che avrebbe meritato. È uno di quei giochi più apprezzati retrospettivamente, no? Che non nel momento appunto in cui hanno visto la luce. Che cos'è Darklands? Allora, Darklands è un gioco del 1992 di Microprose. È un gioco di ruolo ad ambientazione storica. Siamo nella Germania, ai tempi del Sacro Romano Impero. Ci sono alcuni elementi di fantasy, ma pochi, e sono molto ben inseriti nell'ambientazione. Non esiste il mago, non si lanciano magie. L'elemento soprannaturale è rappresentato sotto forma di devozione nei confronti della fede religiosa, quindi assolutamente coerente, diciamo, con l'ambientazione. Se un personaggio è particolarmente devoto e esercita bene la sua devozione, può avere, diciamo, delle conseguenze concrete anche nel corso del gioco. Però l'ambientazione storica, ragazzi, intanto è una novità assoluta nel gioco di ruolo. Ed è anche una proprio una boccata d'aria fresca da tanti punti di vista, anche dal punto di vista delle meccaniche proprio. Darklands è basato su un sistema classless, come si suol dire, cioè non esistono classi predefinite. Esistono delle abilità, va bene, e sono tante, abilità che migliorano con l'uso, va bene? Quindi un po' alla The Elder Scrolls, no? Alla Morrowind, Oblivion, Skyrim, va bene? Quindi migliorano con l'uso. Dopo, per esempio, ogni battaglia ci uscirà un messaggino che dirà, no? Tizio è diventato più bravo con la spada, Caio è diventato più bravo con l'arco. Ma attenzione, le abilità in realtà aumentano e migliorano, non solamente durante i combattimenti, ma anche e soprattutto al di fuori dei combattimenti, sulla base di scelte che facciamo in altri momenti del gioco. Anche sulla base, pensate, dell'invecchiamento dei personaggi. Perché il gioco simula un lasso di tempo molto lungo. Quindi iniziamo da personaggi molto giovani che progressivamente invecchiano, va bene? E invecchiando l'invecchiamento è, come nella vita, un po' una double-edged sword, no? Un'arma a doppio taglio. Si diventa più saggi, si sanno tante cose in più, però contemporaneamente si diventano più deboli, più pieni di problemi, va bene? A livello di gestione della propria macchina fisica, per così dire, no? Tutto questo è così interessante. E tutto questo trova la sua forma all'interno di un sistema di gioco molto particolare, che alterna. Potremmo dire che alterna tre approcci, va bene? Abbiamo l'approccio choose your adventure, l'approccio libro game, per esempio quando esploriamo le città. Esploriamo le città, quindi per esempio, non so, il gioco inizia in una locanda, quindi esce un menu in cui ci dice cosa vuoi fare in questa locanda? Voglio parlare con un tizio seduto in uno sgabello, voglio giocare a un gioco d'azzardo, voglio bere una birra, voglio uscire dalla locanda e andare nella strada principale, voglio uscire dalla locanda e andare nella strada, in una stradina secondaria nascosta, voglio uscire dalla locanda e uscire anche dalla città, va bene? Quindi selezioniamo proprio da un elenco, no? Il gioco prosegue in questo modo e ogni volta la schermata testuale con la scelta multipla ha dietro una schermata grafica che mostra il punto in cui siamo, quindi in realtà è fortemente ambientato, no? Potremmo vedere la locanda, potremmo vedere la stradina buia, potremmo vedere la strada principale, il mercato, va bene? Quando scatta un combattimento la visuale cambia completamente e si entra in una sorta di visuale isometrica dall'alto in cui comandiamo il nostro party in combattimento con pausa attiva, signori! Questa è una novità incredibile, cioè i combattimenti di Darklands sono non troppo diversi alla fine, come concept generale ovviamente, da quelli di Baldur's Gate, va bene? Quindi diamo i nostri ordini, ok? Barra spaziatrice, la battaglia inizia col gioco in pausa, diamo i nostri ordini, barra spaziatrice e vediamo gli ordini portati avanti, tra l'altro in maniera estremamente lenta, va bene? Quindi è tutto chiaro, nonostante la grafica in pixel art, molto approssimativa per gli standard odierni, è chiaro quello che sta succedendo a schermo, va bene? Quindi queste sono, diciamo, le due... Terza sorta di approccio è la visuale invece un po' alla ultima sotto forma di mappa del mondo con party rappresentato da un unico personaggino, no? Al centro, che spostiamo in giro per la mappa del mondo, va bene? Quindi ci sono questi tre, no? Approccio momento libro game, momento esplorazione libera del mondo, momento combattimento in tempo reale con pausa tattica. Ragazzi è veramente... è veramente un gioco... è... notevolissimo, notevolissimo, che ha avuto questa ricezione non così soddisfacente all'inizio, perché è uscito purtroppo in uno stato un po' incompleto, con dei bachi, crashava molto spesso, quindi molte review dell'epoca, se andate a recuperarvele, si concentrano più su quello che non sull'incredibile contenuto e sull'incredibile innovazione che ha molto approccio a questo gioco. Però retrospettivamente, come dicevo, il gioco è stato... ha avuto l'apprezzamento che merita. Oggi è considerato da tutti uno dei giochi di ruolo più belli non solo di questo periodo, ma della storia dei giochi di ruolo per computer. Molti programmatori e personaggi importanti dell'industria lo hanno riconosciuto come loro fonte di ispirazione. Non ultimo Todd Howard di Bethesda, il grande capo di Bethesda, che l'ha riconosciuto come importantissima fonte di ispirazione per la serie di Elder Scrolls. Quindi ragazzi, è un gioco talmente appunto a cui io sono così affezionato, pur non avendolo mai giocato nella sua interezza, che ve lo voglio far vedere. Ecco a voi Darklands. Ladies and gentlemen, ecco a voi il molto sobrio menu principale di Darklands. Allora, direi che selezioniamo direttamente Quick Start, perché il mio scopo è farvi vedere velocemente, diciamo, le diverse interfacce di gioco. Quindi i tre comparti, per così dire, in cui questo gioco piuttosto nettamente e chiaramente si divide. Quindi clicchiamo senza indugio su Quick Start e iniziamo, vedete, con un party già prestabilito. Va bene? Quindi abbiamo, vedete, quattro personaggi che sono Grete, Gunther, Hans e Ebbe Hart. Presumibilmente Grete è una donna, presumibilmente questi tre, tre maschi, tre uomini dal nome. Va bene? Anzi, possiamo guardate anche cliccare sul loro simboletto e vedete ci esce una loro descrizione più dettagliata. Quindi questa è Grete Hen Wilburg e infatti, vedete, è una donna 35 anni ed è la leader del gruppo. E qui, vedete, avete tutte le sue caratteristiche, no? Le sue statistiche, avete, vedete, se clicco su una finestra queste abbreviazioni vengono sciolte, no? Quindi leggiamo meglio, vedete, avete tutte, avete il suo equipaggiamento, questo è il suo equipaggiamento, vedete, ha una short sword che vedete qui, ha una brigandina, ha una chainmail, non ha nessuno shield, non ha nessuna missile weapon, eccetera, eccetera. Qui avete anche l'ingombro, vedete, potete, possiamo fare lo stesso naturalmente con tutti, no? Questo invece si chiama Gunther Langer, è un uomo di 40 anni e ha una clava, vedete, è una club, è rappresentata anche qui. Poi abbiamo Hans Muller che ha una balestra, vedete, ha una crossbow, ecco c'è scritto no weapon perché il gioco considera weapon solo le armi in corpo a corpo, le armi in mele, diciamo, quindi non ha una weapon però ha un'arma a distanza, appunto la crossbow ed è un maschio di 40 anni. Poi abbiamo Ebba Hart che è un maschio di 45 anni e ha questa specie di mazza frusto che qui viene chiamato Mill Flail. Molto bene. E vedete, il gioco comincia in una locanda, ecco, le schermate, diciamo, pacifiche, potremmo dire le schermate, le schermate relative all'esplorazione cittadina, all'interazione con i personaggi non giocanti, sono, funzionano così, no? Questo è il comparto, diciamo, da libro game, no? Sembra quasi un multi-user dungeon a questo punto di vista, sembra quasi un gioco interamente testuale, no? Vediamo cosa dicono queste schermate, cosa dice il testo iniziale. You gather around the comfortable fire at the Heiliggeist in the city of Mainz. Oh! Allora, siamo nel, attorno al fuoco, in una locanda che si chiama Heiliggeist nella città di Mainz. Ecco, questo è un gioco ad ambientazione storica, quindi tutte le città che vengono nominate sono davvero città della Germania medievale, o meglio dell'area germanica medievale, perché alcune in realtà oggi non sono più in Germania, sono tipo nella Repubblica Ceca, insomma, ovviamente non c'erano, no? I confini politici all'epoca che ci sono, che ci sono oggi. E sapete cos'è curioso? Che io ho iniziato varie volte questo gioco, no? In preparazione di questo video relativo appunto alla storia del gioco di ruolo, e ogni volta all'inizio è in una città diversa, quindi il punto di partenza, diciamo, probabilmente è scelto casualmente, no? Fra un ventaglio di opzioni, però si comincia sempre in una locanda, ecco. Quello è un punto, diciamo, sicuro. Then we are agreed, asks Grete. Quindi siamo tutti d'accordo, chiede Grete, che è il leader di questo gruppo. We will swear this pact of loyalty to achieve justice and glory for all. Everyone nods. Oh, giuriamo questo patto di loyalty, quindi di, come si può dire, di solidarietà, di alleanza, no? Per ottenere giustizia e gloria per tutti. E tutti sono d'accordo, tutti, no? Annuiscono. You all swear a pact as blood brothers, firmate un patto come fratelli di sangue, to seek good and avoid evil, per cercare il bene ed evitare il male, and to bring everlasting honor and glory to your name, e per portare onore in perituro e gloria in peritura al tuo nome, molto bene, e cliccando andiamo avanti. You look around at each other, no? Ognuno si guarda, si guarda reciprocamente. Now that we have a goal, no? Adesso che abbiamo un obiettivo, Grete, remarks, O'Reilly. How shall we achieve it? Adesso che abbiamo un obiettivo, come lo raggiungiamo? E a questo punto i vari personaggi del party faranno varie proposte, come vedrete. Let's visit the market and the guilds in search of better equipment and more training, suggests Gunther. Per esempio Gunther dice, andiamo al mercato e alle gilde a cercare miglior equipaggiamento e un po' di allineamento. I've also heard that the churches and monasteries may take on students. Ho anche sentito che le chiese e i monasteri potrebbero prendere, prendono studenti. Once we find some teachers, we can just stay here and work at various things until the money runs low. Una volta che abbiamo trovato un lavoro, diciamo, in una di queste gilde, presso un mercante, possiamo rimanere qui, rimanere in città. Everyone nods. Sono tutti d'accordo. A wise plan, remarks Hanks. Sì, un piano saggio, dice Hanks. But why not take action now? Ma perché invece non ci dedichiamo subito all'azione? Thieves infest the back streets here at night. Ci sono i ladri nei bassi fondi di notte. We can gain repute experience and a bit of plunder by eliminating this scam. Possiamo, eliminando questi mariuoli, possiamo ottenere reputazione, esperienza e anche un po' di bottino. Let us all listen to rumors and visit the market to learn about tasks the merchants may have for us. Ascoltiamo i rumor, no? Cerchiamo se i mercanti hanno degli incarichi da darci. There is an unhappy look on Ebbard's face. Ebbard sembra non essere convinto di queste affermazioni. Don't we need fine armor and good weapons? Non ci serve una buona armatura, no? Delle buone armi. Maybe the sale of one or two valuable items would give us the funds to help everyone here. Forse se vendessimo qualcosa potremmo ottenere il denaro per aiutarci tutti. I'm loath to venture into the dangerous countryside without good equipment. Non me la sento di andare così fuori, no? Di esplorare territori sconosciuti senza avere buon equipaggiamento. Molto bene, abbiamo discusso le varie opzioni e adesso dobbiamo scegliere cosa fare, no? E qui vediamo il tipico, vedete, menu a scelta multipla che ricorda un po' i libri game, no? Lo schema cosiddetto choose your own adventure. Quindi a questo punto cosa facciamo? Passiamo ancora tempo qui nella taverna, ce ne andiamo subito dalla città di Mainz per cercare avventura nell'open country? Oppure andiamo verso la strada principale? Andiamo verso una stradina secondaria? Andiamo verso la strada principale, va bene? Oh, vedete, cambia il background, siamo usciti. Looking down the main street of Mainz, you set off toward. Adesso dobbiamo scegliere la nostra successiva destinazione. Dove andiamo? Alla Domplatz, il political center of Mainz. Ecco, vi ho detto che questo è un gioco ad ambientazione storica, no? Quindi, per esempio, c'è veramente, no? A Mainz la Domplatz, o almeno c'era veramente in epoca medievale. Oppure vogliamo andare all'Eisenturm, the great fortress overlooking the city? Ecco, vedete, in un'altra volta che iniziai, in un altro mio inizio di questo gioco, non avevo questa opzione, non c'era questa fortezza, no? C'era solamente magari il centro politico, il mercato, ma non c'era questa fortezza, perché ero stato, no? L'inizio era stato collocato in una città dove non c'era questa fortezza, va bene? Quindi, vede, interessante, no? Questo rende il gioco anche molto rigiocabile. Oppure, vedete, abbiamo tante possibilità, andiamo nelle chiese, andiamo nei mercati, andiamo nelle gilde. Vediamo un po', dove potremmo andare? Andiamo nel political center della città. Oh! La Domplatz è pulita e ordinata. A questo punto cosa decidiamo di fare, signori? Possiamo esaminare, vedete, le baccheche, cercare, no? Lavoro da fare. Possiamo andare verso le chiese, possiamo andare verso il mercato. A questo punto abbiamo visto la sufficienza, no? Del choose your own adventure e direi che andiamo, torniamo nel main street e cerchiamo di lasciare la città. Quindi andiamo in una delle main gates leading out of the city. Sono delle guardie. Cosa facciamo con le guardie? Ma proviamo semplicemente a camminare past the guards. Non abbiamo fatto niente di male, no? Ancora, perché dovrebbero arrestarci. Molto bene. E siamo usciti dalla città. E qui vediamo, vedete, l'interfaccia dell'esplorazione, no? Quindi quando usciamo dalla città, no? C'è questa interfaccia grafica. Vedete il nostro party rappresentato da questo personaggio che può spostarsi, vedete, in giro per la mappa. Basta cliccare, no? Ci sono delle fattorie, vedete, possiamo entrare nella foresta. Qui vedete questo contatore mostra i giorni che passano, no? Possiamo spostarci per di qua, vedete? E adesso io spero ardentemente che qualcuno decida di attaccarmi, va bene? Quindi così vi faccio vedere anche come funziona il combattimento. Però ovviamente quando hai bisogno di un nemico, no? Come dicevamo anche prima. Ecco, vedete, quando raggiungiamo i bordi, no? Della mappa, la visuale si sposta, no? Vediamo se qualcuno vuole farci la pelle. Nessuno vuole fare la pelle. Ha questo bel party abbastanza privo di esperienza su via. C'è del bottino da fare, signori. Vedete, ci sono altre città, no? Oh, benissimo, questo è proprio quello che volevo. Suddenly a sounder of wild boars. Burst from the wind. Undergrowth. Oh, c'è un wild boar che ci attacca. Anche qui dobbiamo fare una scelta, vedete? Attack at once. Lo faccio su questa scelta solo perché voglio farvi vedere come funziona. Oh, eccoci qua. Dov'è il boar? Signori, non vedo... Ah, eccolo là, forse è quella roba lì, il boar. Vedete, quella roba lì. Vedete, si può anche... Allora, questo è il nostro party. Adesso il gioco è in pausa, va bene? Qui il combattimento è in tempo reale con pausa attiva, molto lento, è fatto molto bene per l'epoca. Adesso questa grafica così spixelosa, diciamo, rende anche al nostro occhio così abituato alle finezze della grafica contemporanea, rende difficoltoso, diciamo, anche a volte riconoscere i personaggi, capire cosa stanno facendo. Però in realtà è fatto molto bene per l'epoca. E voglio dire, il combattimento in tempo reale con pausa tattica, insomma, ha fatto da apripista per tantissimi altri giochi, per grandi capolavori, primo fra tutti Baldur's Gate. Ecco, si può sconare la schermata, vedete, andando ai lati e premendo il tasto maiusc. Ah, ma ce ne sono tanti anche di questi cinghiali, eccoli là, vedete? Quindi andando ai bordi dello schermo e premendo maiusc, sono un po' lontani. Va bene, a questo punto dobbiamo dare ordini ai nostri personaggi, signori. Allora, per esempio, Grete, cosa le facciamo fare? E funziona così, vedete? Adesso Grete è selezionata, noi dobbiamo andare su Attack, gli facciamo fare un bel Standard Attack e clicchiamo su di lui. Molto bene, Grete andrà ad attaccare quel cinghiale. Invece lui, va bene, Gunther, Gunther aveva la balestra, vediamo un po' Attack, vediamo un po' Throw, Use Missile, no, perché sennò Use Missile sarebbe evidenziato invece grigio, quindi Standard Attack e gli facciamo sempre attaccare lui, va bene? Poi, lui forse aveva la balestra, Hans, vediamo, Attack o Use Missile. Molto bene, Use Missile, contro di lui, sempre, va bene. Poi vediamo un po', abbiamo Ebert che sembra un po' un frattacchione, ecco, però non volevo che, vedete, quando mi ha messo la schermata... E no, fammi vedere i cinghiali, se no come faccio a dirti di attaccare i cinghiali? Allora, vediamo un po' Standard Attack e andiamo contro questo cinghiale. Molto bene, adesso, vedete, se io premo il tasto Pausa, scusate, la barra spaziatrice, vedete, iniziamo. Oh, gli cinghiali corrono contro di noi, vedete, possiamo in ogni momento, possiamo in ogni momento, nel frattempo Gunther sta usando, Hans sta usando la sua balestra, no, quindi ha già fatto vari danni, no, vedete questi numerini. E vedete, adesso stiamo combattendo, oh, molto bene, solo che c'è questo cinghiale, allora, sapete cosa facciamo? Allora, noi, Ebbart, cambiamo i nostri piani e gli diciamo che attacchi questo cinghiale. Molto bene, vedete? È veramente... no, e soprattutto mi piace moltissimo, non muoiono mai questi cinghiali, ragazzi, soprattutto mi piace moltissimo, moriremo noi, presumibilmente, mi piace moltissimo il fatto che sia tutto molto lento, no, quindi è tutto abbastanza chiaro. Aspetta che stiamo, secondo me, morendo miseramente contro questi cinghiali. No, beh, uno è morto, molto bene. Allora, adesso diciamo a lui di use missile contro di questo cinghiale, questo cinghiale, questo cinghiale, vabbè, speriamo che abbia capito. E poi diciamo a lui di attaccare sempre questo cinghiale. Molto bene, vediamo se riusciamo a farli fuori senza troppi danni, molto bene, però non sta lanciando proiettili lui, non ha ben capito. Sta combattendo... eh, sono morti tutti, fantastico, fantastico, va bene. Ecco, a questo punto, vedete, questa è la schermata finale, possiamo raccogliere, vedete, questi quarrel, no, quindi get an item from the pile of loot. Benissimo, sì, abbiamo preso tutto, molto bene, e a questo punto leave. E vedete, a questo punto l'interfaccia ci dice che Grete ha aumentato la sua abilità con l'aged weapons, perché qui le capacità aumentano con l'uso, no? Clicchiamo, poi anche lui ha aumentato le sue aged weapons e abbiamo vinto, va bene, molto bene. E signori, all the swine are dead or fled, you pry out their tasks, they are thought to be good luck charms. Ah, prendiamo le loro zanne, perché apparentemente portano bene, they slice off some port to roast and eat on the way, molto bene. Quindi abbiamo anche trovato da mangiare, perfetto, e torniamo nell'interfaccia dell'esplorazione. Signori, direi che avete visto a sufficienza del mitico Darklands. Nel 1993, una casa di sviluppo di nome Dynamics, o Dynamics, pubblica un gioco di ruolo che all'epoca ha un successo incredibile, che viene ancora oggi indicato come uno dei migliori giochi di ruolo della storia. Si chiama Betrayal at Krondor. Noi non l'abbiamo mai sperimentato direttamente questo, però abbiamo letto sempre, prima o poi probabilmente ci proveremo, perché abbiamo letto sempre, veramente, un plauso unanime verso quest'opera. Betrayal at Krondor è un gioco, è un open world, diciamo, è basato su un mondo persistente, quindi non c'è, diciamo, una progressione lineare da location A a location B. C'è un mondo completamente aperto, da esplorare, da esplorare nella sua interezza, e spesso, diciamo, il percorso più breve verso il nostro obiettivo è anche quello più letale, quindi il gioco incoraggia l'esplorazione, va bene? Il combattimento è a turni, ok? È un po'... funziona bene, diciamo, anche se qualcuno si lamenta del suo essere un po' troppo fiddly, un po' troppo complicato, un po' troppo macchinoso, diciamo. Il gioco dà moltissima importanza al preparare la propria esplorazione, no? È necessario nutrire i propri personaggi, è necessario preoccuparsi del riposo, è necessario aggiustare armi e armature, è necessario preoccuparsi di tutto un insieme di cose, no? La storia è molto interessante, molto ben scritta, è basata su una serie di libri, su una serie di libri che si chiama Rift War, di uno scrittore di nome Raymond Feist, e sapete qual è la cosa interessante? Allora, la storia narrata dal gioco, quando venne realizzata, era una sorta di spin-off, diciamo, rispetto alla storia narrata nei libri, va bene? Però allo scrittore è piaciuto talmente tanto il videogioco che poi l'ha trasformato in un libro, quindi successivamente all'uscita del videogioco è uscito un libro che si chiama Crondor, due punti The Betrayal, quindi capovolgendo, diciamo, un po' il nome del gioco, ma modichiasmo, e che appunto reinterpreta in termini letterari ciò che il gioco ha rappresentato in termini videoludici, va bene? In generale lo spessore della scrittura, della trama incentrata su vicissitudini politiche, piena di colpi di scena, è indicato sempre come uno dei punti di forza di questo gioco, quindi dovevamo assolutamente citarlo, 1993, Betrayal at Crondor. Per concludere questo segmento, questo video della nostra storia del gioco di ruolo per computer non può esserci in modo più glorioso, signori, di quello che stiamo per mettere in atto, perché nel 1994 esce il primo capitolo della serie che noi più amiamo in assoluto nel gioco di ruolo per computer, la serie The Elder Scrolls. Il primo The Elder Scrolls è The Elder Scrolls Arena, ed esce appunto per Bethesda nel 1994. Signori, è quasi commovente il modo in cui questa serie si è sviluppata nel corso degli anni mantenendo un'incredibile coerenza di fondo. Aspetta che è una roba... mi viene quasi da paragonarlo alla creazione dei mosaici di San Marco, qui a Venezia, nel corso di secoli, creati nel corso di secoli hanno una coerenza di insieme così incredibile. Ecco, la serie The Elder Scrolls è un po' la stessa cosa, creata nel corso di quelli che sono secoli, metaforicamente, nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie, nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie informatiche. Il primo capitolo è del 94, la serie è ancora in ottima salute al giorno d'oggi, ha una storia ancora lunghissima davanti a sé, perché è una serie di enorme successo, e il background di questa serie, signori, cioè le fondamenta del background della serie sono state messe giù dal primo capitolo e non sono mai state riscritte dai capitoli successivi, almeno in maniera, come dire, significativa, va bene? Cioè la serie ha un'incredibile coerenza di fondo, quando voi iniziate The Elder Scrolls Arena, dovete scegliere da dove... il gioco non vi chiede di scegliere la vostra razza, vi chiede da dove venite, no? E vi presenta la mappa di Tamriel, che è uguale, signori, a quella che si vede in The Elder Scrolls Online, no? L'altro gioco dopo Arena, che ha cercato Arena, la presenta tutta, tutto Tamriel, va bene? Quindi è possibile andare ovunque in giro per Tamriel, certo il 99% di quello che incontriamo è generato proceduralmente, molto noioso, vuoto, però ovviamente insomma dobbiamo anche tenere presente l'epoca in cui siamo, no? Però questo gioco permette di andare in giro per Tamriel proprio in maniera, no? Senza barriere, una cosa simile la fa The Elder Scrolls Online, non rappresenta proprio tutto tutto il territorio di Tamriel, di The Elder Scrolls Online, ma insomma una buona parte. Ecco, la mappa generale di The Elder Scrolls Online e la mappa generale di Arena sono identiche, va bene? Con le loro province, la Red Mountain, le Sirodil, con la Imperial City dentro il Lake Rumor, Rumair, Skyrim in alto perennemente innevato, High Rock, le Somerset Isle, con la stessa forma, è tutto lì fin dall'inizio, cioè è incredibile, incredibile. Io ho provato più volte a giocare a The Elder Scrolls Arena, è una partita, l'ho fatta anche abbastanza, l'ho fatta durare negli anni scorsi anche parecchio, non sono mai arrivato alla conclusione, ma ragazzi ci si sente subito a casa, è incredibile, nonostante tutte le limitazioni, no? Della memoria, dell'epoca. Per esempio, se voi scegliete un Kajit, vi esce che è un Kajit, vi esce che è una razza mezza umana, mezza felina, però l'aspetto, la paper doll, diciamo, del personaggio ha sempre un aspetto comunque umanoide, perché non c'era abbastanza memoria per metterci anche l'aspetto da gatto, diciamo. Il gioco è in prima persona, non ci si può mai spostare in terza, come diventa possibile negli ultimi episodi della serie, quindi la visuale rimane sempre in prima persona. Però ragazzi, no, i canoni, diciamo, sono tutti quelli che abbiamo visto in tutti i giochi della serie, le caratteristiche sono quelle, anche le caratteristiche del personaggio, tra l'altro inopinatamente rimosse da Skyrim, sono le stesse che troviamo in Oblivion, le stesse che troviamo in Morrowind, anche qua ci sono, va bene? Il gioco appunto soffre, no, per il suo essere per il 90% vuoto, diciamo, però insomma ci permette anche solo di dedicarci alla trama principale, senza perdere troppo tempo a esplorare questo mondo. Però ragazzi, è veramente, cioè, considerato retrospettivamente, Arena è incredibile, è un episodio incredibile nello sviluppo del nostro hobby preferito, semplicemente per le fondamenta che mette giù. Ed è un gioco così importante, da me così amato, insomma, soprattutto per quello che ha prodotto successivamente, che non posso fare a meno di farvelo vedere. Quindi signori, entriamo insieme in The Elder Scrolls Arena. Signore e signori, questo è il menu principale di The Elder Scrolls Arena, anche se in realtà abbiamo già schippato in questo momento, diciamo, la sequenza introduttiva, ecco, che dava un po' il quadro della situazione di Tamriel nel momento in cui inizia questa avventura. Mi scuso per questa cosa che si vede lì in alto a destra, è la finestrella scomparsa della interfaccia della scheda video, che per qualche motivo spesso nei giochi che girano su DOS Box rimane lì, in Omnia Secula Secularum, quindi perdonatemi. Allora, adesso io cliccherò su Start New Game per farvi vedere il processo di creazione del personaggio, che in realtà è abbastanza rapido. Ce ne sono due in realtà, comunque vi faccio vedere velocemente come funziona. Allora, intanto c'è una sorta di narrazione, no? Vedete, Iuriel Septim IV, Emperor of Tamriel, vabbè, niente, non riusciamo a leggere perché le scritte scorrono troppo velocemente. Comunque, mentre il racconto scorre, vi racconto un po' cosa succede. Fondamentalmente l'imperatore viene tradito da uno dei suoi consiglieri, questo Jagad Tarn, il big villain di questo gioco, che fondamentalmente cattura l'imperatore, lo imprigiona in una dimensione creata da lui stesso, essendo lui un mago, essendo questo Jagad Tarn, un battle mage, quindi un mago al servizio dell'imperatore, e in pratica prende il suo posto, va bene? Quindi questa è un po' la premessa del gioco, quindi noi veniamo, il nostro eroe inizia in prigione, no? Come è classico di questa serie, e il suo obiettivo è uscire da questa prigione, ovviamente, e cercare di risolvere questo problema, no? Quindi smascherando, diciamo, l'impostura del buon Jagad Tarn. Allora, vedete, a questo punto dobbiamo appunto creare il nostro personaggio, e il gioco ci offre due possibilità. Se noi clicchiamo su Generate, ci viene fatta una lista di domande, questa è una roba che si verifica anche in Morrowind, anche in Oblivion, no? C'è la possibilità di creare il personaggio rispondendo a delle domande, e in base alle risposte date alle domande, il gioco seleziona la classe, che secondo lui fa per noi. In realtà noi non faremo, non faremo, in realtà non c'è in Oblivion questa roba, c'è anche in Oblivion, perché non mi ricordo, c'è sicuramente in Morrowind, no? In Oblivion no, in Oblivion a seconda delle abilità che hai usato di più, no? Nel corso del tutorial ti viene assegnata una classe, che poi puoi cambiare, ovviamente, mi pare funzioni così. Comunque noi non andremo attraverso queste domande, andremo semplicemente su Select, e vedete, su Select abbiamo la possibilità, appunto, di scegliere la nostra classe, va bene? Quindi noi per esempio potremmo scegliere, vedete, possiamo anche scorrere, no? In giù, il gioco supporta il mouse interamente, va bene? I giochi di questo periodo rispetto ai giochi precedenti, no? Che abbiamo analizzato in questa serie sono molto più semplici, diciamo, da padroneggiare, perché non bisogna imparare mille scorciatoie da tastiera, il mouse finalmente esiste ed è implementato. Allora, cosa facciamo, signori? Ok, facciamo un warrior, facciamo un generico warrior, va bene? Premiamo invio. Ok, quale sarà il tuo nome, warrior? Beh, il nostro nome sarà chiaramente. Ecco, che razza facciamo a questo proposito? Perché il gioco supporta tutte le razze possibili, no? Facciamo un nord, che ne dite? Visto che Skyrim ha avuto questo grande successo, facciamo un nord, no? Quindi un bel nome, un bel nome vichingo, cosa potrebbe essere? Potrebbe essere, vediamo un po', non mi viene nessun nome dipinto, vichingo, scusate, potrebbe essere Indrik, Indrik Stored Mask, molto bene, è un bellissimo nome, perfetto. Cosa siamo? Siamo uomini, direi, e ecco qua, guardate, questa è una roba che veramente mi commuove, cioè mi commuove. Quando ho visto per la prima volta, appunto sperimentando questo primo capitolo, quando ho visto questa mappa che è uguale alla mappa che stiamo, no? Che stiamo usando adesso in The Elder Scrolls Online, è identica, ragazzi, in tutti gli altri giochi della serie, è veramente impressionante. Cioè, pensate, un gioco, una serie iniziata nel 1994, sta ancora proseguendo adesso nell'anno 2021 e proseguirà, presumo, per molti altri anni, perché è in perfetta salute, è della stessa casa di produzione che l'ha realizzata nel 1994 e l'ambientazione è quella, continuiamo a costruire, a sfruttare questa ambientazione e c'è tutto, guardate, fin dall'inizio c'è tutto, è una roba impressionante. C'è Somerset, c'è Oridon, guardate, questo si chiama Oridon, c'è il Valenwood, c'è, vedete, l'Imperial Province con l'Imperial City al centro, nel laghetto, al centro del laghetto, il Lake Rumor, Rumair, anzi, si chiama. Poi guardate, c'è la Red Mountain a Morrowind, c'è la Black Mersh, c'è Skyrim, guardate qui in alto, c'è Solitude, c'è tutto, c'è Hammerfell, c'è High Rock, è veramente incredibile, è veramente, no, quanti giochi cambiano, pensate ai cambiamenti che ci sono stati dal punto di vista così dell'iconografia, dello stile, della lore, anche solo per dire, no, il passaggio fra il primo, il secondo, il terzo, Dragon Age, per dire, no? Cioè, che pure, voglio dire, sì, sì, no? Si sono verificati, si sono stati pubblicati a distanza, avvicinata rispetto ai giochi di cui stiamo parlando qui, no? Della serie di Elder Scrolls. È incredibile veramente la coerenza di questa ambientazione e il modo in cui viene portata avanti dai suoi autori. Va bene, bando alla nostalgia e clicchiamo su Skyrim. Quindi siamo nella, veniamo dalla Land of the Nords. Sì, direi che accettiamo questa come la nostra casa, molto bene. Quindi sarai conosciuto, sarai noto come il guerriero Indrik Stored Mask, che chiama la sua casa, Skyrim, la terra dei Nord. Molto bene. Oh, also know this, ci dice il gioco, sappia anche questo, la tua razza è forte, as the northern winds which sweeps through icy glaciers. È forte come i venti del nord che soffiano tra i ghiacciai. The Arctic Climb hast hardened thy folk for life's cruel and bitter hand. Il clima artico ci ha resi forti, no? E pronti a affrontare le asprezze della vita. Molto bene. Adesso dovremmo, thy body and mind must be strong and hardy if thou art to succeed as a warrior. Devi essere forte di corpo e di mente se vuoi essere, se vuoi avere successo come guerriero, va bene? Oh, go now in peace and let thy fate be written in the Elder Scrolls. Vai in pace e che il tuo destino venga scritto nelle antiche pergamene. Molto bene. Adesso dovremmo capitare, eccola qua, nella schermata del personaggio, va bene? Eccola qui, questa è la schermata con le caratteristiche del personaggio, va bene? E vedete c'è una specie di, c'è un set di statistiche che viene rollato a caso, diciamo all'inizio della partita, però subisce dei bonus in base alla nostra, alla razza diciamo che abbiamo scelto. Vedete, ogni razza ha qui anche il suo background, no? Noi abbiamo questo bel background innevato, come vedete. E guardate, queste sono le caratteristiche che ci sono state, dove? Eccole qua, che ci sono state fino a Oblivion. Con una scelta dissennata, Bethesda ha deciso di rimuoverle da Skyrim. E noi speriamo con tutto il cuore che il prossimo capitolo della saga di Elder Scrolls veda il ritorno delle caratteristiche del personaggio, va bene? Perché, cara Bethesda, vogliamo giochi, come dire, divertenti, accessibili, semplici da padroneggiare, ma non siamo deficienti. Ecco, forse bisogna far arrivare questo messaggio ogni tanto agli sviluppatori, se ci sono delle caratteristiche del personaggio. Riusciamo a gestirle, riusciamo a capirle, insomma. Quindi, no? Speriamo che Bethesda abbia il giusto rispetto, diciamo, nei confronti dei suoi fan e non continui con le sue operazioni di progressiva semplificazione che alla fine ci porteranno, se continuano ad avere giochi sempre più insoddisfacenti, spiace dirlo. Allora, abbiamo 15 punti da distribuire fra le nostre caratteristiche. Sicuramente vogliamo aumentare la forza e la destrezza, no? Quindi mettiamo un po' di punti sulla forza, portiamola almeno a 60, la forza, che ne dite? Scusate, stavo dicendo della destrezza, in realtà forse l'endurance vogliamo che sia più alta. Vediamo un po' l'intelligenza, il willpower e l'agility, non è che ci interessi più di tanto. Forse portiamo l'endurance già a 70, che dite? Ma sì, ma sì. E aumentiamo ancora di più la forza? Vediamo un po'. Se no, boh, diamo questi punti un po' in giro, così? Nell'agility, sapete che non ho... Nella speed? Diamogli alla speed. Ma sì, diamogli alla speed. 55, molto bene. Done. Ci piace? Save stats o reroll stats? No, 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 salviamole, ci piace molto. Oh, adesso dobbiamo scegliere la nostra appearance, che vuol dire semplicemente scegliere una faccia fra quelle disponibili. Ecco, una cosa un po' triste di questo comparto, vedete, possiamo scorrere fra le varie facce, una cosa un po' triste di questo comparto è che, per esempio, scegliamo questo, siamo un po' un nano però, questo è calvo, non mi piace, scegliamo questo qui, va bene? Allora, stavo dicendo, una cosa un po' triste qui è che, per esempio, scegliendo... Allora, pur dicendo la lore, il background del gioco, che i Khajiit sono mezzi uomini e mezzi felini, e gli Argonian sono mezzi uomini e mezze lucertole, poi alla fine non si... cioè, graficamente abbiamo sempre questo aspetto umanoide qua, anche scegliendo quelle razze, per limitazioni, diciamo, nelle possibilità grafiche del gioco, proprio nella memoria, diciamo, che era possibile incamerare nei supporti dell'epoca. Comunque, va bene, signori, teniamo questa appearance, teniamo questa... oh, ecco, adesso c'è questa tizia, che non mi ricordo come si chiama, ma, ah, ce lo dice lei, do not fear, for it is I, Rio Silmons, o Ria Silmons, sapete che ho dei problemi a leggere questo testo, pixelato. Indrik, listen to me, there are no others left to carry on this fight. Allora, questa tizia era un aiutante, un braccio destro dell'imperatore, ed è stata uccisa dal cattivo, Jagged Tharn, e nel gioco funge un po' da nostra guida, e ci parla in sogno, va bene, ecco, perché è importante ogni tanto dormire, perché ogni tanto ci appare lei e ci dà qualche indicazione. Comunque, adesso ci sta dicendo, ascoltami, non c'è nessun altro che possa portare avanti il compito che ti sto per dare. You have been left in this cell to die, ti hanno lasciato in questa cella a morire. Jagged Tharn, Imperial, vediamo se riusciamo a scorrere, Battle Mage in Tamriel, has taken on the guise of the true emperor. Jagged Tharn, come diceva anche il filmato, per così dire, introduttivo, ha preso il posto dell'imperatore di Tamriel. He does not see you as a threat, being only a minor part of the imperial court. Non ti vede come una minaccia, no? Visto che, insomma, sei solo una piccola parte dell'imperial court, questo fa pensare che il nostro personaggio fosse parte dell'imperial court, prima di essere imprigionato. In that act of arrogance, he has made his first mistake. Ecco, arrogante ha già fatto il suo primo errore, no? Non considerandoti una minaccia. Look to the north wall of this cell, you will find a ruby key which will unlock the door. Nella cella troverai una chiave che ti permetterà di aprire la porta, già questo è una roba un po' strana, no? Cioè, il gioco parte con noi in una cella, ma in un angolino della cella c'è lì la chiave pronta per aprire la serratura. Take it and make your escape. Magari l'ha fatta apparire lei, chi può dirlo, perché sarebbe un po' strano, no? Che il nostro nemico ci imprigioni in una cella mettendoci dentro la chiave. Vabbè, non importa. The passages here were once used by Tharn to hide treasures he had stolen from the emperor's coffers. Ecco, questi sotterranei, ci dice questa signorina, sono stati usati da Tharn per nascondere tesori da lui rubati, no? All'imperatore. Quindi, ecco, già qui abbiamo un'anticipazione di quello che ci aspetta, no? Siamo in un dungeon pieno di tesori, quindi forse vale la pena esplorarlo bene. If you wish, you can gather enough to support yourself away from the imperial seat. Se vuoi, appunto, puoi raccogliere tesori sufficienti a sostenerti. Be careful, there are many creatures which inhabit the sewers now. Vile rats and goblins. Attenzione, ci sono molte creature che abitano queste, adesso le chiama sewers, no? Non si capisce bene se è un dungeon o delle fognature, comunque ci sono dei ratti giganti e dei goblins che infestano, dei goblin che infestano questo dungeon, quindi stai attento. It is too late for me, for I am already dead. È troppo tardi per me, sono già morto. Only my power as a sorceress keep me between this life and the next. Solo il potere che avevo come maga mi tiene sospesa fra le due dimensioni della vita e della morte. That power, however, is waning. Quel potere però sta scomparendo. Do not succumb to greed or you may find these tunnels to be your final resting place as well. Non essere troppo avido, sennò finirà che questi sotterranei saranno la tua tomba. I can still work my magic to a certain extent. Posso ancora utilizzare la mia magia fino a un certo punto. If you travel west from this cell then south, you will find a shift gate. Se vai prima a ovest e poi a sud, troverai una shift gate. It will transport you far enough from the center of the empire that you should be safe. Ti trasporterà sufficientemente lontano dal centro dell'impero da renderti sicuro. If you survive these sewers, you will see me again. Se sopravvivi dentro questo dungeon, mi vedrai ancora. Remember, Indric, Thorn, Thorn has taken on the guise of the emperor. Ricorda che Thorn, il cattivo, ha preso le sembianze dell'imperatore. No one will gainsay his word for yours. Cosa vuol dire gainsay? Nessuno, nessuno crederà a te piuttosto che a lui. Penso che questo sia il significato. I will come to you again in your dreams. So it is imperative that you rest from time to time. Verrò ancora a parlarti, quindi è importante che ti riposi di quando in quando. In that way I will be able to communicate with you and send my aid. In questo modo riuscirò a comunicare con te, ti manderò aiuto. You are entering a dangerous arena, my friend, one in which the players are being beyond your mortal comprehension. I do not envy your role. Stai entrando in un gioco molto complicato, amico, e non invidio affatto il tuo ruolo. There is however a power within you as yet untapped. C'è però del potere in te ancora inespresso. Look for me when you have gained experience in the world. You are my last and best hope. Quindi cercami ancora quando avrai ottenuto abbastanza esperienza. Sei la mia unica e migliore speranza. Molto bene. A questo punto signore inizia il gioco vero e proprio. Guardate, questo è il muro della cella, va bene? Il gioco è in prima persona e guardate che non è così diverso dai giochi successivi della serie. Allora, io adesso userò il tastierino con le frecce, vedete? E muovo la mia visualizzazione. visualizzazione. Vedete, guardate? Vedete? È un gioco in prima persona, appunto. Quindi muovo la mia visualizzazione. Mi muovo. Ci sono le catene che pendono. Vedete? C'è del testo che compare. You awaken to the drip of water from somewhere above. Ti svegli e c'è il gocciolio di acqua dall'alto. The cell walls are covered in slime, as are the chains which hang from above. I muri di questo sotterraneo sono coperti di muschio, come anche le catene che pendono dal soffitto. Your eye, however, immediately goes to a strange ruby glint from the corner of your cell. Il tuo occhio è immediatamente catturato da questo ruby glint, da questo riflesso color rubino che viene da un angolo della tua cella e non ci crederete ma è proprio la chiave di cui ci stava parlando. Eccola là. Qui c'è la porta della cella, vedete? E là in fondo c'è la chiave. Allora funziona in questo modo, vedete? Guardate. Io adesso vado qui e clicco... forse non serviva neanche in realtà andare lì... e clicco sulla chiave. You have found Arabic key. Molto bene. E la chiave adesso è scomparsa, vedete? Dal mondo di gioco. Molto bene. Se adesso io vado nella porta, guardate, clicco sulla maniglia. No? Sì? Your door open will be ruby key. Guardate. Trlac! Che animazione straordinaria. E guardate, ogni volta che c'è del tesoro, vedete? Tipo qui? Ci si clicca sopra. Forse. Vediamo. Sì. E vedete? Qui c'è una plate gauntlets e una bog of twelve gold pieces. Abbiamo trovato dodici pezzi d'oro e un plate gauntlet. Adesso a questo punto, guardate, se io clicco sulla faccina del mio eroe, vado, guardate, nella schermata del personaggio che abbiamo già visto prima e vedete? Andando su Next Page trovo il suo inventario, va bene? E posso mettergli, guardate, i gauntlets. Vedete che vengono indossati. Guardate che roba. la paper doll. Guardate che avanzatissima per l'epoca sta roba qui, eh. E possiamo dargli anche la broadsword. Vedete? Molto bene. Adesso, signori, siamo pronti. Done. Per tornare al gioco. La scritta dice The corridors here seem twisted and confusing. I corridoi sono, come dire, molto intricati e confusi, ma le istruzioni che avevamo ricevuto da LIA erano di andare prima west, then south. Quindi dovremmo seguire in teoria queste istruzioni. Adesso noi non cercheremo di uscire. Quando usciremo da questi sotterranei, il nostro personaggio viene teletrasportato nella sua regione di partenza. Quindi in questo caso noi finiremo teletrasportati a Skyrim, va bene? E da lì dobbiamo cercare poi di andare avanti col gioco, no? Il gioco è una ricerca di determinati artefatti. Quando ce ne abbiamo tutti possiamo finalmente affrontare il cattivo. E questo gioco rappresenta tutto il continente di Tamrien, quindi è veramente, come dire, avveniristico, notevole per lei. Certo, il 99% di Tamriel è semplicemente, come dire, terreno generato casualmente, no? Senza nessun elemento di interesse o quasi. Però ragazzi, per l'epoca, guardate che anche questo sotterraneo, comunque, cioè, no? Ha un suo... cioè, comunque ha un suo perché da giocare ancora oggi, eh? Io sono andato parecchio avanti, no? In una prova che ho fatto prima di questo video in questo gioco e devo dire che, vabbè, insomma, ovviamente molto, no? Ha delle meccaniche molto complesse rispetto ai nostri standard, però comunque, ragazzi, i giochi di quest'epoca iniziano a essere seriamente giocabili, no? Anche oggi. Anche per divertirsi e non solo per semplici, per semplici, diciamo, motivi archeologici, ecco. Allora, vi faccio vedere un combattimento e poi fermiamo questo esempio di gioco. Se io premo, vedete, questo tasto, mi compare la spada e la posso, vedete, muovere tenendo premuto il tasto destro del mouse. Quindi adesso non dobbiamo far altro che trovare un nemico. Allora, andiamo in giro a caso, finché non troviamo un nemico, vediamo. Ah, ecco, vedete, il gioco suggerisce di riposare sopra queste nicchie sopraelevate, perché così pare sia, se andiamo in quelle nicchie, è più difficile essere attaccati, no? Allora, vediamo cosa c'è per di qua, vediamo. Allora, su, vogliamo un nemico, signori, dov'è? Datemi un goblin presto. Vediamo un po'. Dov'è? Non riesco a trovare neanche un goblin. Goblin. Allora, qui c'è dell'acqua, volendo potremmo anche, si può anche nuotare in questo gioco, quindi potremmo anche buttarci nell'acqua, però preferirei evitare per il momento. Dov'è? Mi sono già perso, mi sono già perso 16 volte più o meno. Proviamo andare giù di qua? Ovviamente quando ti serve un nemico non lo trovi, no? Quando invece stai per... Uh, guardate, questo forse è del tesoro, vediamo. Uh, ma attenzione, abbiamo trovato un nemico, secondo me. Guardate, c'è un bel ratto che, vedete, ci sta attaccando. Infatti, vedete, questi sono i nostri punti ferita e stanno andando giù. Adesso noi però, guardate, con un bel... Ah no, scusate, un bel atto tasto, con un bel colpo di spada, eccolo lì, avete visto? Abbiamo fatto fuori il ratto. Alcuni nemici hanno oggetti che possono essere raccolti, ma in questo caso, vedete, the rat has nothing usable, ok? I ratti non hanno assolutamente nulla. Vediamo se c'è qualcosa qui. Posso prendere sta roba? Ah no, è solo decorativa sta roba, non posso prenderla. Sì, apparentemente sì, è solo decorativa. Va bene, signori, direi che... Ah, c'è anche un sistema di automapping, eh? Aspetta, vi faccio vedere anche quello, guardate. Vedete? Questo qui, ragazzi, cioè, è una grande novità, eh, rispetto ai giochi di cui abbiamo parlato nei segmenti precedenti di questo video, no? Questo sistema di mappatura automatica. Ci affranchiamo dalla carta e dalla penna, no? In questi anni. Nessuno dei giochi, no? Dei decenni degli anni precedenti aveva questi sistemi di mappatura automatica. Vabbè, signori, adesso ci metteremo troppo temi, ma c'è un altro ratto, molto bene. Eh, combattiamolo subito, no? Hop, guardate, avete visto? Guardate che gli schizzi di sangue non sono neanche male, eh? Cioè, insomma, tenendo presente della grafica, no? Di questi anni, guardate che, insomma, no? Non è disprezzabile. Comunque, direi che, appunto, abbiamo visto a sufficienza, ci metteremo troppo tempo a uscire da questi sotterranei. Questi non sono veri esempi di gioco, ma solo assaggi, no? Quindi questo, signori, era The Elder Scrolls Arena. E con The Elder Scrolls Arena, signori, che peraltro è disponibile gratuitamente, se andate nel sito Bethesda, qualche anno fa Bethesda l'ha reso freeware, quindi potete tranquillamente scaricarlo e giocarlo, e funziona senza problemi nei sistemi odierni. L'assaggio di gioco che avete appena visto è stato fatto in un sistema assolutamente moderno, con Windows 10, non ha mai cresciato, non ha mai dato problemi di nessun tipo, quindi se volete potete tranquillamente giocarci. Dicevo, con The Elder Scrolls Arena terminiamo questa nuova tappa del nostro viaggio nella storia del gioco di ruolo per computer, quindi naturalmente rimanete sintonizzati perché continueremo questa storia in un prossimo video in cui ci occuperemo dei cinque anni successivi, no? Andiamo avanti di quinquennio in quinquennio e signori con il prossimo video finalmente arriveremo a parlare di un volgere di anni durante il quale il sottoscritto c'era come giocatore, non dall'inizio ma insomma in parte di quel quinquennio che vedremo c'era e ha sperimentato diversi dei giochi di cui parleremo dall'inizio alla fine, quindi insomma avremo modo di approfondire ancora di più, avremo modo di parlare di titoli forse a tutti noi più familiari. Io vi ringrazio molto per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, fateci sapere naturalmente se c'eravate, io appunto non c'ero come giocatore nel volgere di anni di cui abbiamo parlato in questo video e nei video precedenti, quindi mi raccomando se c'eravate raccontateci le vostre esperienze, fateci sapere com'era sperimentare questi giochi appena usciti, no? Perché per quanto uno li recuperi 30 anni dopo, no? Con le migliori intenzioni non sarà mai come giocarli ovviamente al momento dell'uscita, quindi fateci sapere quali sono i giochi che più vi sono piaciuti di questi anni e mi raccomando se vi piacciono i nostri video continuate a seguirci e dateci un feedback, lasciateci un like e iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così da non perdere le notifiche e ricordatevi di continuare a stare con noi perché abbiamo tanto tanto materiale che vogliamo condividere con voi in futuro. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video.